Grazie a tutti Grazie a tutti Allora, ripeto per chi non lo sapesse quello che ho deciso di fare. Non troppo tempo fa, primo marzo 2020, ho festeggiato i miei cinque anni. Cinque anni da quando ho acceso questa rete che si chiama Orlando ed è stata la cosa più bella che ho fatto dopo aver lavorato per tanti anni per altri. Il primo marzo del 2015 ho acceso questa rete splendida che ogni giorno entra in casa vostra in punta di piedi con l'educazione che ci distingue e questo è molto importante. E appena ho acceso questa rete la mia idea era quella di fare una galleria d'arte con televisione dove la televisione era un accessorio ma prima di tutto essere una galleria d'arte. Allora ho aperto tutti i cavò delle gallerie Orlando di mio padre tirando fuori delle cose splendide e offrendo a voi in questi cinque anni un'idea per fare una collezione sicuramente vincente. I numeri parlano chiaro. Io non seguo molto i numeri perché non ho mai seguiti, ci vuole un'intelligenza per seguire i numeri ma ogni tanto mi dicono quello che fate. Io poi quando finisce la trasmissione sono talmente stanco sinceramente che non so quanto abbiamo fatto, quante prenotazioni, poi me lo dicono dopo. E devo dire grazie perché ieri sera avete fatto un record, cosa che veramente minassa senza parole. Grazie davvero. E grazie alla mia squadra, una squadra importante quella di stasera, il mio Ale alla parte tecnica, Iole, Robertino al centralino, Fabio, Alessio in squadra. Insomma siamo davvero di fronte a una serata indimenticabile per questa mia volontà. Ripeto, abbiamo festeggiato il compleanno della rete dal primo marzo per una settimana ed è stato un compleanno straordinario dove in quell'occasione del compleanno ho deciso di abbattere i prezzi del contemporaneo e ho chiesto alla proprietà dei dipinti antichi di abbattere le riserve. È stata una settimana di fuoco perché avete confermato tantissime cose meravigliose. Poi, come sapete, le cose sono cambiate, l'Italia sta vivendo una situazione particolare e di conseguenza ho deciso di prolungare questa promozione per far sì che questa cosa che stiamo vivendo un po' tutti, almeno le opere d'arte, sono sempre state terapeutiche. Quindi hanno sempre dato un sostegno importante. Io poi non so voi, ma io non posso vivere senza opere d'arte. L'opere d'arte è la mia energia, la mia forza. Quando entro in casa me le guardo e le vedo e dico che cosa meravigliosa. E penso alla storia di questi artisti e quello che hanno fatto. È importante. Poi, devo dire, anche in questo periodo, con gli sconti e i prezzi che vi ho fatto, in questo periodo e con questi sconti, c'è esultazione lì? Come mai? C'è un'esultazione là? Ah? Viva, viva, viva. Bene, bene. Sono felice. Anch'io voglio essere partecipe della vostra gioia. E vi dicevo, in questo periodo, proprio in questi prezzi straordinari che ho riservato per voi, sono apparsi tanti clienti che non prenotavano da un po' di tempo. Beh, devo dire, proprio perché ovviamente i prezzi bassi piacciono a tutti. E senza dimenticare che proprio in un periodo di incertezze, basta pensare al passato, l'investimento più sicuro, quello più, ormai lo sanno tutti, investimento immediato, le opere d'arte, la grande pittura, i grandi nomi, le grandi scuole, le grandi botteghe, sono sempre i soldi meglio spesi della vostra vita e questo lo sapete. In tempi di guerra e carestie le opere d'arte hanno dato da mangiare alle famiglie e questa è una verità. Questa è una grande realtà che poi, supportato anche dai prezzi straordinari che stiamo facendo in questa operazione, che abbiamo nominato Just Art. Cos'è Just Art? Just Art, come Alessandro Merighetti online ci mostra con la gra, Just Art non vi portiamo da mangiare a casa, ma qualcosa che non fa ingrassare, anzi, ma che nutre l'anima, cioè le opere d'arte. Tocchiamo in questo numero io e ti porto l'opera d'arte a casa. E questo è veramente una cosa meravigliosa, voglio dire che tutte le opere poi partono dai nostri cavò della Toscana, perché la Galleria Orlando nasce a Firenze, questo è Just Art, Nutrimento per l'anima. E in questa operazione che appunto, fin quando le cose non cambiano, e quindi approfittatene, avete una collezione straordinaria che mai nella mia vita mi sarei sognato di fare, perché ho fatto centinaia, migliaia di carrellate nella mia vita, questi 30 anni che faccio a televisione, ma mai avrei fatto, avrei pensato di mettere un dipinto antico, uno moderno, uno contemporaneo, un dipinto antico, quindi parlare di più di 500 anni di storia. E invece questa cosa la facciamo e piace un sacco, perché ovviamente chi di voi ama il contemporaneo guarda, chi di voi ama l'antico guarda, chi ama il moderno guarda, poi ci copieranno come hanno sempre fatto quando ho acceso la rete, ma va bene così, l'importante è essere i primi a fare qualcosa di straordinario. Devo dire, questa operazione piace un sacco e piace tanto a voi, a me un po' meno, perché mi state dissaguando con il contemporaneo, ma va bene così. E quindi iniziamo subito, stasera 250 opere a prezzi straordinari, potete prenotare qualunque quadro vi piaccia, antico, moderno, contemporaneo, qualunque opera vi piaccia la potete prenotare, e vederla quando avete tempo e voglia a casa vostra, o nelle nostre gallerie quando si potrà. Quindi l'importante adesso è prenotare, perché se volete vedere queste opere d'arte a questi prezzi, questa è la trasmissione giusta. Siamo ancora nell'operazione Just Art e questo vuol dire che anche questa sera godrete di privilegi incredibili nella prenotazione di queste opere. Detto questo, iniziamo immediatamente con la prima opera, e parliamo subito di Alta Epoca, e quindi con l'opera numero uno. Et voilà. Cominciamo a dire che siamo in una bottega importante, quella di Luca Giordano, quindi un'opera specialmente bella e preziosa. L'opera, siamo nella prima metà del 1700, e l'opera ha una stima di soltanto 9.000 euro, vi è offerta questa sera a 2.200 euro. Ecco, voglio ricordare che dipinti di alta epoca, dipinti importanti, questi non perdono mai valore. E sono opere che io ho proposto in qualche biz. E cos'è il biz? Il biz è una trasmissione che mi sono inventato qualche anno fa, in cui dava un servizio a coloro che volevano far fuori delle opere d'arte antiche, con delle riserve. Le riserve cosa sono? Dice Orlando, ok, io ti do questo quadro, al maggior offerente, però meno di questa cifra non voglio. Questo quadro aveva una riserva di 3.000 euro, ma la proprietà di questi quadri ha battuto le riserve, e ditemi voi, un capolavoro come questo di alta epoca ha soltanto 2.200 euro. Se volete vederlo senza impegno, basta chiamare e dire il numero uno. Via! Il numero due è un importante maestro contemporaneo. Lui è Martino Gorno, il vero grande erede della pittura di Mimmo Rotella. Questi sono i suoi straordinari décollage. Questa è un'opera bellissima perché sono questi strappi. E lui è un artista che è stato definito davvero il grande erede di Rotella. Io vi ho proposto quest'opera in passato, in galleria, misura 50 per 50, a 1.200 euro soltanto. Bene, il primo di voi che adesso mi chiama, glielo porto a casa, a soltanto 390 euro. Un'opera d'arte contemporanea di un artista accreditato come essere uno dei grandi eredi della pittura del grande Rotella. Grazie, questo è il numero due. Passiamo al numero tre. Attento al numero tre perché è un quadro che mi piace molto. È l'opera di Edgardo De Lucia. È un'opera che racconta questi lavoratori. Un olio su tela particolarmente bello. Scusate i riflessi. Mi ricorda molto Sironi, mi ricorda anche qualcosa di Casorati. Edgardo De Lucia è l'artista. Mi piace veramente tanto. Ed ha un prezzo di soltanto 3.200 euro. Bene, 1.200 euro soltanto. Questa è l'opera numero tre, se volete vedere. Fermo. E adesso andiamo a Firenze. Andiamo a Firenze a vedere questa splendida Madonna con bambino. un'opera siamo, in questo caso, nella prima metà dell'Ottocento. L'opera in visione ha una stima di 3.500 euro. E la mia richiesta questa sera è di soltanto 900 euro. Vabbè, lei è dolcissima. Veramente molto bella. L'opera in visione è la numero cinque, se volete vederla. Ma dall'Ottocento, amici, adesso facciamo un salto nel tempo di 200 anni. e andiamo nella bottega del Savoldo. Attenti collezionisti, perché poi lo so che tra voi... Ma poi ho scoperto questa cosa. In questi giorni in cui state prenotando di tutto di più, mi sono accorto di collezionisti tra voi, miei clienti, che compravano solo moderno e contemporaneo. Improvvisamente vi siete innamorati dell'antico? Beh, lo sa tutto il mondo che con l'antico non sbagli mai e non perdi mai un euro. Siete un po' rumorosi stasera. Ma la cosa ancora più importante è che clienti che, giuro, compravano solo contemporaneo e moderno, improvvisamente hanno acquistato antico. Questo mi piace molto, ma una collezione non può essere soltanto di un genere. Una collezione è una collezione che non ha limiti, non ha spesso di tempo, no? Quindi può essere un quadro del 600 vicino a un quadro contemporaneo del 9 o quant'altro. Questo è molto importante, soprattutto quando i prezzi sono così abbattuti. Siamo in una bottega straordinaria, quella del Savoldo, e questa è l'opera numero 7, la cornice ecoeva. Ed è questa adorazione dei pastori. Ha una stima di 7500 euro. E attenti, amici, perché lo posso offrire a uno di voi. A 2500 euro. Lo sai cosa compri a 2500 euro? Un lontano seguace del Savoldo. Vi ricordo che tutte le opere antiche sono espertizzate e certificate. 2.500 euro, un capolavoro come questo. Se volete vederlo senza impegno, questa è l'opera numero 7. Lui, il mio grande amore, uno dei miei grandi amori è Claudio Feruglio, il grande Feruglio, questo artista che mi affascina come pochi altri, dove in ognuno dei suoi dipinti mette sempre una persona, una persona che può essere tu o io. E quest'artista piace molto, perché è uno degli artisti più intimi. Questo è un olio su tela, che racconta questo percorso magnifico, il cielo e come dipinta. L'opera è in visione. Esatto, poi ho avuto il piacere di intervistarlo. È un personaggio meraviglioso, ma poi come arreda un quadro così. Questo è Claudio Feruglio. L'opera è la numero 11. Se volete vederla, misura 80 per 80, Orlando la vende a 2.500 euro in galleria. Orlando ha i prezzi buoni tutta la vita, 900 euro soltanto. Già start. Meraviglioso, meraviglioso. Via! Passiamo all'opera numero 12. Oh, 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 un momento, un momento. L'opera numero 12, grazie, Telefunken, l'opera numero 12 racconta il re nudo. È il bagno del re. Il re sta facendo il bagno e tutti sono girati, nessuno può vederlo mentre fa il bagno. È un capolavoro, è qualcosa di straordinario. La cornice è coeva e ha un'expertise esterno del professor Marini, che attribuisce questo capolavoro alla bottega del De Meijer. È un'opera del 1600, ha una stima firmata di 75.000 euro. E la cosa ancora più interessante è che quest'opera aveva una riserva di 25.000 euro. Chiaro? Il re nudo. Guardate che cos'è. Sapete a che prezzo ve lo porto a casa? A 14.500 euro. 14.500 euro soltanto. Meravigliose. Questi sono gli affari d'oro. Trovare una trasmissione dove la proprietà abbatte... C'è una stima firmata di 75.000 euro. Ho firmato Cristo in croce, è il numero 10. Ringrazio. Questo è il numero 12. Grazie. Via. E adesso uno sprendido ritratto di fanciulla. L'opera è la numero 13. Firmato da Gigi Barone. Un olio è su tela, misura 60 per 80. Costa 1.500 euro. 490 euro questa sera. L'opera di Barone è la numero 13. Reggi il quadro che devo girare l'altro. Minuti. Bravo. Ok. Benissimo. Via. Attenti a questo capolavoro del Settecento. Perché questa splendida fanciulla che riposa è niente meno che Diana. Bellissimo quadro. Bellissimo quadro. Un'opera meravigliosa. Il riposo di Diana. La dea della caccia. La cosa che mi auguro possiate vedere in televisione. È tutto quello che accade intorno. Ci sono dei personaggi. Ci sono due signori qua che la spiano, che la guardano. E gli altri personaggi, il paesaggio. È un'opera favolosa. La cornice è coeva e ha una stima, pensate, di soltanto 12.000 euro. Signore e signori. 3.500 euro soltanto. Mamma che bella che è. Che bella che è. Meravigliosa. Ale, come mai gira stasera? Altre volte no? Sì. Via. Joseph Matteo, l'opera numero... Mi perdo con il numero. Numero 17. Questo dipinto misura 80 per un metro e venti. Costa 2.200 euro. 750 euro soltanto per lui. L'opera di Joseph Matteo, la numero 17. Numero 20. Un artista russo. Che dipinge questi due personaggi. All'interno di un palazzo a San Pietroburgo. L'opera è veramente via. L'opera è veramente magnifica. La numero 20 in visione. Fermato da Bernard Cabenchi. Sono il lucianale di guardia al palazzo d'inverno di San Pietroburgo. L'opera costa 3.500 euro. 900 euro la richiesta di questa sera. Gran bel quadro. Davvero bello. Possiamo togliere e passare a un altro grande nome del Novecento. Che sta facendo sempre più successi in tutto il mondo. Questa è la straordinaria opera di Mario Luzzi. Un artista che si è saputo imporre con questo dripping elegante e importante in tutto il mondo. Ed è un orgoglio italiano. Mario Luzzi. Un grande quadro. Questo è il numero 21. L'opera in visione. Che racconta una delle sue galassie tra l'altro. L'opera misura un metro e cinquanta per un metro. Io la vendevo a 4.500 euro. Attenzione. 1.900 euro soltanto. Ora. Attenzione al prossimo dipinto. Perché? Perché il prossimo dipinto è questa importantissima opera. che racconta il mito di Giuditta Oloferne. Un soggetto molto ambito dai collezionisti. È molto amato. E... Salto in prima tela. L'opera in visione. Questo straordinario. Dosso Dossi. L'opera in visione ha una stima di 14 gradi. La pone tra i 14 e i 15.000 euro. La mia richiesta questa sera è di soltanto 4.500 euro. Mamma mia che quadro amici. Che quadro è questo. Stupendo. Stupendo. 4.500 euro soltanto. Dosso Dossi. Gran bel dipinto. L'opera è dunque la numero 22. Se volete vederla. Ma la cosa incredibile è che ancora restiamo a parlare di alta epoca. Con un'opera che vi lascerà senza fiato. Vai. Beh, signore e signori, attenzione a questa che è la numero 23. L'opera in visione è una sacra famiglia della 1600 di François Lemoyne che ha una stima di 15.000 euro. Ebbene, attenzione, 5.500 euro offerta. Una sacra, sacra, splendida famiglia di una bellezza davvero unica. Questa è l'opera numero 23. Allora, io amici ho 250 quadri da presentare. Quindi è chiaro che non posso soffermarmi troppo sulle opere. Però è anche vero che siamo in diretta. Quindi in qualunque istante potete chiamare questo numero e dire stop Orlando, fammi rivedere quello, quello o quell'altro. Senza alcun impegno naturalmente. Perché non posso stare 30 secondi su un capolavoro come questo. Ma è anche vero che più vado veloce più riesco a farvi vedere altre cose. E voi appena... non aspettate di vedere il numero 250 per prenotare le prime opere. Perché? Perché sono tutti pezzi unici e rischiate di non trovarli. Voi non dovete avere paura a prenotare. Potete prenotare tutti i quadri che volete. Prenotare un quadro vuol dire poterlo rivedere con più calma e poi decidere se acquistarlo o meno. Non hai nessun impegno all'acquisto. Quindi è importante perché se no magari... Dici, aspetta, li vedo tutti e poi chiamo. Errore. Perché rischiate di non trovare più delle cose simili. Questo è il 23, grazie Fabio. E passiamo... oh quanto mi piace lui. Signore e signori, uno dei più grandi, importanti, affascinanti paesaggisti nella storia del Novecento. Questo è il magnifico Aurelio Catti. Mamma mia che quadro. Io qui, qui là. Aurelio Catti. Bellissimo. Guarda le trasparenze di quest'opera, veramente favolosa, bellissima. Artista che ha quotazioni molto importanti. Questa è la numero 24, adesso vi dico. Infatti il prezzo è di 22.000 euro. Attenti bene, amici. Un capolavoro come questo del Catti a 4.500 euro soltanto. Quattro e mezzo per lui. Nonostante... guarda che meraviglia questa figura. Nonostante l'importanza del quadro, la bellezza di questo dipinto. Beh, se non approfittate stasera a un prezzo del genere un capolavoro come questo. Poi, un importante dipinto di alta epoca è questo, è l'opera numero 26, San Francesco di Paola. Siamo in Veneto, siamo nella prima metà del Settecento, costa 9.000 euro, 2.500 euro. Chiaro? Un pezzo come questo, di questa importanza, ha soltanto 2.500 euro. Possiamo toglierlo, vai. E' l'allegria, la gioia, questo artista che dipinge la natura come nessun altro. Qualcuno ha suggerito che Amedeo Cianci, questo artista, prende la natura a piene mani e la mette sulla tela. E' una danza di fiori, è un'opera che ci illumina. Mettere colore in casa, il colore è vita. E lo so perfettamente. Molti di voi a volte mi fermano per stare sorlando, ma tu tutte le sere presenti le cose magnifiche. Ma io ho la casa piena di quadri. Lo so che avete le case piene di quadri, le ho viste. E allora, quando accadono certe cose, soprattutto con una promozione come questa, stacca qualche quadro triste, vecchio, e metti un quadro che parla solo di vita e di luce. Questo è il grande Amedeo Cianci. Perché un quadro di questa bellezza, olio su tela, ha dei colori formidabili, io in galleria lo vendo a 4.500 euro, perché è un grande nome. Tuffati in questa natura, Alessandro. Sentite il prezzo di stasera, di questa operazione. L'opera in visione, che è la numero 27, ha soltanto 900 euro. Meno di 1.000 euro. Chiaro? Un quadro di questa forza, di questa bellezza, poi così materico. La materia serve a far vivere le emozioni forti. Il grano biondo, ogni singolo ciuffo d'erba è una pennellata. Guarda che quadro è questo. Ti rifà una parete, ti apre una finestra magnifica sulla natura e la bellezza. Dico, mamma mia, che quadro, mi dice, 900 euro soltanto. Mi ricordo poi, per chi non lo sapesse, che la Galleria Orlando, ormai conosciuta in tutta Italia, per avere veramente l'elasticità dei pagamenti, anche troppo, più incredibile nella storia. Perché quando io ti faccio vedere il quadro, se ti piace, ho detto se ti piace, perché non hai nessun impegno all'acquisto, sarai tu a decidere come pagarlo, quando pagarlo, in che modo pagarlo, con che sistema pagarlo. Dilazioni le decidi tu, tempi le decidi tu. Chiaro? Cioè, questa è una cosa, la possibilità, io mi rendo conto, questo è un quadro messo in vetrina, in galleria, fa fermare il traffico da come è bello. 900 euro soltanto, è bellissimo. Via! Se volete vederlo, era il numero 27. Numero 28, la presa della Bastiglia, questo dipinto ad olio su tela, è un art nouveau, siamo nella prima metà del 900, 1920, 1930, l'opera in visione, la splendida opera in visione, un grande quadro, costa 5.000 euro, cos'è questo? Questo è uno scherzo. Grazie. 550 euro. Non è un poster, è un olio su tela. 550 euro. Chiaro? Cioè, questa è veramente una cosa incredibile. No, dice Orlando, sai, è un po' troppo grande, non so dove metterlo. Questi non vanno mai a male. Metteteli da parte, perché sono quadri importanti. Via! E attenzione a questa cascata di frutta, di fiori, splendido dipinto ad olio su tela, con una magnifica cornice che gli fa d'abito, è l'opera numero 29. L'opera in visione è dipinta, è un dipinto originale firmato da Andrea Marinelli, 92 centimetri, primo metro e 22, offerto a soltanto 2.700 euro. Un quadro di questa bellezza a 2007. E adesso, attenti alla bellezza incredibile di quest'opera. Allora, questo è un quadro molto importante perché ha una firma molto importante. Ma al di là della firma, guardate la bellezza, come è dipinto. Grazie Alessio, lo tieni. E per favore Alessandro, i volti, i tessuti, ogni singolo mattoncino di questa antica casa. Ma vogliamo parlare, anche se ho poco tempo, dello splendore di questa cornice, tutta scolpita a mano, intagliata a mano? Avete mai visto niente del genere? E' qualcosa di incredibile, la bellezza di questo quadro. Ora, è il numero 31. L'opera in visione è un dipinto attribuito a Pietro Barucci. Ma se tu vai a vedere le ultime giudicazioni d'asta, Barucci, l'opera di Barucci partono da 30.000 euro in su. Ma non certo così bello. Questo quadro è meraviglioso. E lo sai che prezzo? Io ringrazio la proprietà del quadro perché questa è una cosa folle. Mamma mia che meraviglia. Allora, questa è l'opera numero 31. Aveva una riserva di 10.000 euro. 4200 euro. Cioè la cornice costa 10.000 euro una cornice. 4200 euro che tu potrai pagare anche a 100 euro al mese. Ma pensa che il quadro ti porti in casa. E' stupendo. Stupendo. Veramente stupendo. E poi non dimentichiamo, con un'attribuzione così importante. Bellissima. Bellissima opera. Davvero stupenda. L'opera missione dunque è la numero 31, se volete vederla senza impegno. Ma Orlando, ho già prenotato due quadri, tre e dieci. Qual è il tuo problema? La tua missione come questa non si può ripetere. E io portarti tre opere, cinque, sei o sette, faccio la stessa fatica. Poi scegli con calma. Ma questo dategli un'occhiata. Perché a questo prezzo un capolavoro simile non si lascia. È fantastico. Via. Dipinto importante perché questa è la grande luce dei fattori. In questo dipinto vestito da una cornice coeva strepitosa. Magnifico il quadro. L'opera in visione è il numero 33. Firmato da German Sarnason. L'opera costava 3.500 euro. Fantastico. 1.750 euro. Io poi sono quello fissato con le cornici. Ma una cornice antica così costa un patrimonio. 1.750 euro un dipinto così. Vabbè. 36 e troviamo un altro capolavoro di Amedeo Cianci che racconta questa scogliera sul mare. Siamo nella splendida Puglia. La bellissima Puglia. Il profumo del mare. Come non mai. È un grande quadro. L'opera in visione infatti è la numero 36. Misura 80 per un metro e venti. Costa 3.500 euro. Senti qua. 950 euro. Però non male. bella questa operazione. Via. E attenzione amici a questa sacra famiglia. Ah, un momento però. Qui amici voglio la vostra massima attenzione. Poi lo so, la cosa che veramente ce l'hai. La cosa che veramente mi fa riflettere è che io so perfettamente che questa trasmissione, cioè ieri avete fatto man bassa di opere, stasera vedo già molto traffico al centralino. Anche perché tutti i miei collezionisti, i miei clienti, che da sempre guardavano la trasmissione del Biz, si stanno accorgendo che il Biz è molto conveniente. ma abbattere le riserve. Esempio, il quadro che vedete alle mie spalle, questa sacra famiglia. Siamo nella bottega di Carlo Dolci a Firenze. Siamo nel 1600, la cornice coeva. Un pezzo che non dovrebbe meravigliarti vedere simile a questo la galleria degli uffizi a Firenze. Questo è Carlo Dolci. Una sacra famiglia così. L'opera ha una stima di 25.000 euro. Lo sai che prezzo te lo porto a casa? Senza impegno e senza spendere un centesimo. A 4.500 euro. Attenti, non ho detto ambito, seguace, cerchia. No, questa è la sua bottega. 4.500, una sacra famiglia del dolci, espertizzata. di questa bellezza. È splendida, splendida. L'opera è in prima tela, stato conservativo ottimo. e uno di voi adesso mi chiama e mi dice Alessandro, voglio un capolavoro a un prezzo piccolo piccolo. Beh, questi sono i soldi meglio spesi della vostra vita. Un dipinto di alta epoca così. Vuol dire mettere in casa, quando parli di una sacra famiglia del dolci. Vuol dire spendere 25.000 euro per un quadro così. Quattro e mezzo. L'opera in visione è il numero 37. Grazie Alessio. Passiamo al numero 38. Eccolo qua, un capolavoro di Martino Gorno. Il grande Martino Gorno, questo artista così famoso per essere stato definito l'erede universale della grandezza di Mimmo Rotella con i suoi eccezionali decollage. L'opera in visione è una grande opera di Martino Gorno. L'opera misura 1,20 m per 80. Costa 2.500 euro in galleria. 550 euro. È un pezzo unico. Bellissimo. Via! E attenzione a quello che arriva perché i ritratti di nobili so che vi piacciono ma questo è particolarmente prezioso perché parliamo di un ritratto di nobile firmato e datato. Cosa molto rara. Ebbene, datato 1673 con tanto di stemma della famiglia e lui, tipico parruccone del Seicento questo signore che è un letterato la cornice è meravigliosamente coeva e l'opera in visione numero 39 la mia richiesta pensate a una stima di 9.000 euro 3.400 euro soltanto 3.400 euro ripeto come ho detto prima perché è una grande realtà vi assicuro che soltanto questa cornice del Seicento vera in foglia oro questa cornice ha ancora la foglia oro del Seicento è incredibile cosa è un patrimonio bene non avete capito male 3.400 euro soltanto via! E attenzione al fragore di queste onde del mare al tramonto quadro stupendo grande e importante siamo nell'Ottocento l'opera in visione numero 40 firmato da Gaetano Varese che racconta questa questa splendida mareggiata ma è un quadro immenso ebbene un metro per un metro e cinquanta costa 7.000 euro adesso ora a 2.700 euro numero 40 in visione possiamo togliere adesso attenti perché il numero 41 è una tavola parchettata della bottega del Bruegel e allora io ritengo che i collezionisti tra voi che questa sera siete così tanti io lo so e che guardano un quadro del genere si rendono conto dell'eccezionalità di questa serata dove uno di voi adesso mi può chiamare e farsi portare a casa un quadro del genere è una tavola già parchettata anticamente siamo nel 1600 della bottega del Bruegel guardate i personaggi e la meraviglia del paesaggio perché è un quadro formidabile l'opera in visione ha una stima di 22.000 euro signore e signori 7.500 euro soltanto fantastico veramente fantastico ecco un altro dei capolavori di questa prima carellata numero 41 passiamo al numero 42 e come si può non innamorarsi della pittura strepitosa di Alessio Luzzi con i suoi dipinti e questo dripping elegante che lo distingue dagli altri l'opera in visione è un grande importante dipinto di Alessio Luzzi numero 42 misura 1.50 per un metro 4.500 euro in vendita in galleria 1.400 euro la richiesta numero 42 in visione via e la so e ora qua cosa mi dite amici cosa mi dite di fronte a un quadro simile guardate che spettacolo è questo opera eccezionale questa che vedete è l'opera numero 43 Abramo con i figli siamo nella prima metà del settecento e l'opera costa 12.000 euro 5.500 euro vogliamo spendere qualche secondo per mostrarvi lo splendore di questa cornice coeva bellissima ebbene amici 4.500 per lui un quadro eccezionale Abramo e i suoi figli questa è l'opera numero 43 un attimo che giriamo questo ce la fai reggo io il quadro e dopo dopo questo importante dipinto di alta epoca attenzione al re della pop art lui è Marco Lodola che racconta questo dipinto ad olio su tela con questi due ballerini di Ginger Rogers e Fred Astaire la grande pop art un metro per un metro e cinquanta numero 45 offerto a soltanto questa sera 1700 euro limite un quadro così bello a un prezzo così piccolo fate la bellezza poi anche la firma eccezionale che ha e adesso entriamo in un salotto elegante ma che meraviglia è proprio vero che i quadri hanno un grande potere questo dipinto parla di eleganza parla di fascino parla di un salotto importante dove questi signori e signori vestiti in abiti da sera passano una bella serata guardate che spettacolo i profumi gli abiti i fiori è un quadro che veramente ha un fascino unico è l'opera numero dicevamo numero dove sei qua 48 sì e adesso vi dico anche il prezzo l'opera in visione questa belle epoque ha una stima di 22 mila euro è favoloso siamo nella prima metà dell'ottocento siamo a Parigi signore e signori signore e signori 4.500 euro ma Dio mio ma dimmi un quadro di questa forza e di questa bellezza avete visto i fiori tutte queste belle signore hanno i fiori intrecciati tra i capelli negli abiti è una cosa meravigliosa 4.500 euro ed è il dipinto numero l'ho detto poc'anzi 48 ecco l'importante amici prima di telefonare memorizzate il numero del quadro che volete rivedere con più calma con più attenzione siete voi a decidere quando e dove se chiamate stasera a queste condizioni via e passiamo adesso a un altro grande nome del novecento lui è Salvatore Emblema questa opera è un'opera straordinaria perché è importante il periodo di Salvatore Emblema l'opera è la numero 49 ora sapete perfettamente che negli ultimi anni hanno proposto qualche televendita opere di Emblema a prezzi imbarazzanti ma purtroppo è stata un'operazione fatta da gente che appunto ha voluto fare questo tipo di operazione distruggendo il mercato di questo artista ma senza sempre parlando in realtà di un grandissimo nome grande nome pensate le opere di Emblema sono ai musei vaticani a Roma nella collezione Rockefeller ma la televisione crea e distrugge questo è drammatico lo so bene perché la conosco molto bene la televisione l'ho guidata per tanti anni no? ora è successa la stessa cosa per Schifano c'è gente che ha immesso sul mercato soprattutto televisivo decine di migliaia di opere di questi artisti il mercato di Schifano distrutto con le opere degli anni 90 lo stesso vale per le opere di Emblema ma questo non ha fatto altro che rafforzare il mercato delle opere di questi artisti storiche e cioè quelle degli anni 60 pensate ancora oggi un'opera di Mario Schifano degli anni 90 vale ben poco ci vorranno 30 anni perché valga qualcosa lo stesso vale per le opere di Emblema ma quando trovi un'opera di Salvatore Emblema degli anni 60 archiviata allora capisci che è un'opera da acquistare perché questa costa 35.000 euro vorrei una cortesia Alessio e Fabio fate vedere viene pure da me Alessandro vorrei far vedere il retro del dipinto perché negli anni 60 ancora Emblema dipingeva non come una fabbrica ma come un artista vero intenso guardate il retro del dipinto a voi Salvatore Emblema 1967 meraviglioso ma lo sai a che prezzo te lo porto a casa archiviato e pubblicato possiamo anche rigirare grazie Alessandro a 14.500 euro a 14.500 euro chiaro c'è un'opera degli anni 90 questo questo è veramente il capolavoro perché dice Orlando io in casa mia voglio solo quadri importanti solo quadri eccellenti e voi potete prelottare ripeto non si comprono i quadri alle 10 di sera in pochi secondi in televisione questa è la galleria Orlando e Alessandro Orlando ha voluto fare questa operazione un momento difficile quello che stiamo vivendo io voglio farvi un sacco di sconti di operazioni di sconti folli per far sì che possiamo passare queste giornate in compagnia di opere d'arte a prezzi strepitosi 14 e mezzo un pezzo del 60 degli anni 60 così importante ma Alessandro scusa confermata l'opera numero 35 da rivedere ringrazio allora la cosa davvero strepitosa è quello che accade prego adesso ve la fanno rivedere un istante attenzione qua attenzione qua si vede qualcosa ora siete di fronte a un pezzo da museo siete di fronte a un'opera che ha entusiasmato il professor Gerardi il professor Benelli e anche me io da novecentista da contemporaneo da sempre vi ho sempre detto io sono nato e cresciuto in una famiglia di 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 collezionisti di mercanti d'arte moderna ma di fronte a un quadro come questo allora un attimo solo perché hanno chiesto di rivedere lo splendido dipinto che racconta Napoleone con gli ufficiali eccolo qua questo è già confermato era solo da rivedere ok bellissimo quadro quadro da grande salotto importante allora tendiamo che uno dei miei assistenti metta l'opera scusate questo riflesso terribile ma purtroppo non si può fare altrimenti perché nessun quadro nasce per essere visto in televisione figuriamoci un dipinto che ha più di 400 anni di questa forza ora l'opera in visione racconta il mito di Lucrezia che cosa che cosa fa impazzire di questo quadro ce l'hai? cosa fa impazzire di questo quadro il fatto che lui vuole uccidere lei ma lei lo guarda lo abbraccia e non non le dice ti prego non farlo ma la cosa straordinaria è che mentre lui fa questo gesto di ucciderla lei lo abbraccia lo accarezza non lo respinge ma lo accarezza è un quadro è un quadro meraviglioso che parla di gelosia parla d'amore è bellissimo veramente bellissimo un capolavoro del Cagnacci in questa forza proveniente da una prestigiosa collezione nella città di Mantova l'opera in visione è la numero 50 ha una stima di 120.000 euro perché parliamo del Cagnacci quindi un'opera particolarmente preziosa 35.000 euro sono questi i momenti in cui ti accorgi ma sono queste le opere da prenotare quando un uomo un folle come me offre un pezzo da museo così a un prezzo del genere a fronte di una stima firmata di 120.000 euro 35.000 via passiamo oltre e andiamo a vedere questo straordinario decollaggio una grande opera di Martino Gorno è l'opera numero 51 misura 1,40 m per 2 metri era in vendita 4.500 euro signore e signori 950 euro meno di 1.000 euro e ti porto a casa un lavoro straordinario di colui che è definito l'unico vero grande erede di Mimmo Rotelle questa la magnifica opera numero orlando 51 grazie Alessio numero 52 ai 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 questo è un altro quadro che mi fa impazzire siamo in pieno art nouveau quindi a Deco nella prima metà del novecento e questa danza queste fanciulle che danzano nel bosco è un quadro formidabile veramente formidabile bellissimo bellissimo l'opera in visione era numero 52 è un dipinto originale di Andrea Petrilli uno dei più grandi esponenti dell'art nouveau l'opera è sensazionale un metro e trenta per un metro e cinquanta ha una stima di novemila euro duemila duecento euro vai ai 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 duemila duecento euro il grandioso dipinto di Andrea Petrilli splendida opera a soltanto duemila duecento euro beh allora lo ripeto ancora una volta non si può certo decidere di acquistare un quadro vedendolo in televisione in pochi secondi chiamare questo numero vuol dire bloccare il prezzo dell'operazione già a start poi quando hai deciso me lo fai sapere mi richiami domani domani all'altro dice Orlando non lo voglio nessun problema ma attenti ai prezzi che avete stasera dimmi tutto ah no esatto esatto allora c'è ancora un dipinto c'è ancora un dipinto eccezionale di un artista eccezionale lui ecco questi sono quei quadri che vi giuro mi fanno pensare a tante cose mi fanno pensare alla mia adolescenza questo è un artista che io ho visto avevo 13 anni mi ricorderò tutta la vita Palazzo Strozzi a Firenze ha dedicato un'intera mostra antologica a lui lui è Enrique Ortugno Enrique Ortugno è il più importante espressionista spagnolo ma riconosciuto a livello internazionale quest'opera è un capolavoro perché è ancora più forte di Guttuso è ancora più forte di qualunque artista dell'espressionismo è un'opera sensazionale e io ho visto una mostra di questi artisti l'evento è stato incredibile perché è stato l'unico artista che è esposto a Palazzo Strozzi a Firenze ed era all'epoca vivente chiaro? accarezzare la tela è un quadro eccezionale momento intimo di riflessione l'opera in visione Enrique Ortugno è l'opera numero 53 un metro e trenta poi un metro e cinquanta costa 15 mila euro ma quando mai? allora se voi riuscite a trovare un dipinto ad olio di Ortugno a meno di 50 mila ditemi dove nella mia collezione personale quella che ho costruito nel tempo arricchita anche dai capolavori che mi hanno lasciato in eredità mio padre ci sono ho due opere di questo artista due e le amo come poche altre 3500 euro a voi vederlo a casa vostra non vi costa né tempo né fatica né denaro ma provate a vedere un quadro così l'emozione che dà perché l'espressionismo dà questa forza davvero incredibile numero 59 è invece questa importante opera di Michele De Marco questa stupenda figura cubista molto vicina a Picasso direi è Michele De Marco questa numero 59 la previsione mi sono metto per 70 1900 euro l'offerta 750 la mia richiesta di questa sera via grande Martino Gorno ve l'avete confermato tutte le opere di Gorno non mi meraviglia questa è la straordinaria opera di Martino Gorno bellissima una numero 61 66 per 50 costa 2200 euro 590 euro soltanto allora voi sapete che finalmente la fotografia sta andando sempre più forte la fotografia come arte come anche collezionismo è andata sempre più forte questo che vedete è uno scatto originale pezzo unico di uno dei più importanti maestri della fotografia italiana lui si chiama Daniele Mariani un milanese che si è imposto a livello internazionale in galleria a Milano un'opera di questo artista si vende a 2500 3000 questo è un pezzo unico uno delle sue splendide pin up degli anni 50 l'opera numero 63 ha 490 euro soltanto 490 euro bellissima opera bellissima Daniele Mariani pezzo unico via una mamma con sua figlia un dipinto ad olio su tela che racconta questo momento meraviglioso dove si vede lo splendore della gioia di questa bambina che abbraccia la sua mamma e la meraviglia del quadro impreziosito anche da una splendida cornice l'opera in visione numero 64 è un dipinto originale di Lucia Bassani con espertise esterno che ha una stima di 18.000 euro e la richiesta è di 3900 euro soltanto via lui è Giacomo Ponzi è un olio su tela di questo artista che nasce a Parma e che a me piace da impazzire perché è un artista che dipinge alla maniera degli impressionisti la pittura en plein air e questa è l'isola di Pasqua con i monoliti un dipinto ad olio su tela numero 65 che si vende in galleria a 2200 euro 750 euro soltanto gran bel quadro ed è il 65 ma il numero 66 è un ritratto di Nobile e lo vediamo Gian Battista Civola della fine del 1700 l'opera in visione 95,70 7500 euro la stima 2500 euro invece l'offerta per lui gran bel quadro che racconta un fiore stupendo con una cornice coeva che è un capolavoro gran bel quadro gran bel quadro davvero sprennido dipinto siamo nel 1700 l'opera che vedete è la numero 68 e costa quella là 9000 euro ai 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 signori sai che prezzo te lo porto a casa a 2500 euro c'è il prezzo di un pittorino contemporaneo che ovviamente copia la pittura antica questo è un originale chiaro a 2000 penso alla cornice esatto 2500 euro soltanto gran bel quadro veramente bello l'opera in visione se volete vederla è la numero 68 passiamo al numero 70 e attenzione attenzione a questo dipinto che racconta questo genitore con i suoi bambini papà e mamma e bambino è l'opera numero 70 guarda firmato da Fassi costa 2200 euro 490 euro attenti amici siamo alla fine degli anni 70 Franco Angeli Olio allora io molto spesso vi ho detto puntate sulla pop art perché è l'investimento più immediato della vostra vita Franco Angeli United States of America half dollar aviation art un capolavoro come questo già archiviato attenti amici perché uno di voi mi chiama sapete che questa misura si vende a 7500 certo ed è un artista da acquistare è un artista da acquistare da comprare a 7 e mezzo perché lo sanno tutti che lui costerà 10 volte più di Schifano ho spiegato il motivo perché ha dipinto un decimo rispetto a Schifano il grande Franco Angeli l'opera la numero 73 questa sera a 2900 euro ma non ditelo a nessuno se no mi faccio nemici tutti i galleristi in Italia 2900 euro soltanto Franco Angeli olio bellissimo bellissimo e imperdibile via attenzione a questo interno di Santa Maria delle Grazie gli interni di cattedrale sono sempre stati anche in questo caso molto ambiti dai collezionisti questo è la numero 74 firmato da Andrea Cattaneo è un'opera datata 1925 costa 5 e mezzo 1900 euro vai attenzione andiamo a Firenze andiamo a Firenze con questa eccezionale Madonna con bambino che ha una stima di 35.000 euro lo sai perché? perché ancora una volta siamo in una bottega che tutto il mondo ci ricorda essere tra le più affascinanti e importanti quella di Carlo Dolci bellissimo dipinto 7.500 euro questa sera belli questi cavalli che escono dalle acque guardate qua numero 77 è un dipinto ad olio su tela di Vittoria Morelli misura 60 per 80 1.500 euro il prezzo 490 euro l'offerta fermo lì attenzione entriamo in un'altra bottega straordinaria quella di Bartolomeo Schedoni certo che si vede la differenza quando si parla di un seguace e quando si parla invece del maestro che ha eseguito guardate lo spettacolo di questa deposizione la bottega è quella di Bartolomeo Schedoni una deposizione di Cristo fantastica dipinta in maniera incredibile tutti i personaggi vieni guarda mamma mia che pezzo che pezzo è questo ora la stima di questo capolavoro è di 25.000 euro questi sono i capolavori che non smettono mai di essere importanti Bartolomeo Schedoni signore e signori bello da impazzire 2.900 euro questa operazione già start se la ricorderanno tutti i nostri amici collezionisti perché veramente sono cose che possono accadere mai 2.900 euro un pezzo da museo così via la premission misura 50 per 60 2.500 550 euro l'offerta via lui è Edgar Van Hilt importante artista olandese la grande pittura lo vuoi tu questo? la grande pittura Fiamminga questo ingresso nel porto gran bel quadro l'opera numero 82 18.000 euro la stima 4.900 l'offerta e adesso un grande maestro contemporaneo lui è Antonio Murgia è confermata la 76 ringrazio ripeto confermato non vuol dire acquistato vuol dire Orlando prima lo vedo e poi decido lo volete prenotare tutti i quadri che volete sarete voi a decidere quando e dove vedere il quadro decidete voi quando tra un mese quando volete se vi piace lo comprate non vi piace lo rimettiamo in un'altra carrellata non avete perso niente lui è Antonio Murgia stavo pensando a quel capolavoro di Mario Schifano di prima a 1.200 euro siete ancora lì a pensare se prenotarlo o meno anni 60 ai 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 magnifica opera di Antonio Murgia questa che vedete il grande Murgia in galleria è un 80-80 olio su tela si vende a 2.200 euro bene attenzione al prezzo numero 83 1.200 euro soltanto via aspetta questa è un'opera sensazionale divertente i francesi lo chiamerebbero un divertissement questa simpaticissima coppia lui e lei lui che fa il birichino un po' con lei in un interno in una cantina vedo le botti ed è io vi prego di notare come è dipinto questo quadro perché è sensazionale veramente sensazionale l'opera in visione una splendida codice coeva è la numero 84 l'opera in visione questo seguace di francesco Hayez ha una stima di 12.000 3.900 euro l'offerta è simpatico questo dipinto dell'800 che si intitola La liberazione del topolino numero 86 John Jason Kierke l'artista costa 7.500 euro 2.000 e 200 euro l'offerta via il numero 88 attenzione Giovanni Ceschini attribuito a Giovanni Ceschini questo San Pietro da Verona martire ha una stima di 5.500 euro 1.400 euro da 5.500 1.400 euro un capolavoro attribuito a Giovanni Ceschini e adesso la grande pittura di Antonio Sciacca un grande contemporaneo molto amato dai grandi critici e storici una delle sue espranide madonne le linee è confermato l'ortugno l'85 complimenti 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 gran bel quadro l'opera in visione numero 89 Antonio Sciacca olio su tela sempre offerto a 2.200 euro 750 euro 750 per questo affascinante dipinto di Antonio Sciacca attenzione attenzione questa è una tempera una tempera numero 91 è l'opera questa scuola romana della prima metà dell'ottocento 4.500 la stima 1.750 l'offerta via Michele De Marco attenti a questo artista così quotato e così importante è un dipinto ad olio su tela di Michele De Marco numero 92 questa doppia prospettiva 80 per 1.20 2.200 euro il prezzo signore e signori 750 euro lo ripeto non voglio polemiche in Galleria Orlando si compra bene tutto l'anno stiamo attraversando un periodo un po' difficile e allora facciamo follie con questi dipinti a prezzi straordinari è un quadro davvero splendido e importante grazie Fabio attenzione a questa composizione natura morta della fine del settecento guarda come bella è così caravaggesca l'opera in visione è la numero 93 Michelangelo Cercozzi 70 per 1 metro 4.500 l'offerta oh la la ma possibile mai amici 1700 euro cioè stiamo offrendo dipinti di alta epoca ai prezzi di un quadrettino fatto non so da chi questo è un capolavoro a 1.700 via e questa è l'opera numero 94 di un artista russo Vittor Cernenko l'opera in visione 94 offerta a 590 euro soltanto nel 2005 via oh la la questa poi è ricchissima qui siamo nella prima metà del settecento prima metà del sette capolavoro vero un'importante splendida opera come questa l'opera in visione numero 95 qua Giacomo Nani della prima metà del settecento costa 9.000 euro 5.500 l'offerta via e è lui Alessio Luzzi il grande Luzzi se sapeste a che prezzo si vende questo artista in alcune gallerie d'arte io Orlando ho il piacere di avere alcune opere io sto offrendo a pochissimo perché io le vendo a 4.500 4.700 ma è un artista che costa un sacco di soldi questo è Alessio Luzzi è il numero 96 questa sera a 1.400 euro beh a carezzare ancora la tela perché è qualcosa di meraviglioso davvero bellissima questo via è il numero 96 se volete vederlo e ditemi se avete visto una composizione più raffinata più elegante di questa io non la ricordo sinceramente è veramente molto bella è bella perché ha un fascino io me la immagino in un salotto vicino a una bajour magari in uno studio di un professionista gli strumenti musicali i drappeggi è un'opera bellissima allora questa è l'opera una 97 sì un attimo sì no no è lui sì sì perché certo l'opera in visione numero 97 bellissima ha una stima di 9.000 euro è un quadro formidabile cioè qui sono quei quadri che se io se vedo un quadro così nella bottega di un antiquario avrei un po' paura a chiedere il prezzo perché è veramente bella signore signori fa un po' 1.900 euro cioè io io è tutta la vita che vendo quadri avrò riempito veramente mezza Italia voglio di più di quadri e quante volte mi è capitato quando lavoravo per altri di vendere quadri di artisti commerciali che copiavano la pittura antica a 3.000 3.500 questo è un dipinto importante 1.900 euro ha un fascino incredibile questo quadro bellissimo se volete vederlo senza impegno senza spesa dite il numero 97 grazie Fabio il numero 98 è questo dipinto surrealista di Cernanco ancora una volta offerto vi dico subito l'opera in missione numero 98 a 2.500 euro 590 euro soltanto via attenzione a questo ritratto di nobile tipico nel parruccone firmato e datato è un importante dipinto questo l'abbiamo detto scusate scusate ancora questo del numero 99 ok della bottega di Pietro Ricchi è del 1600 costa 7.500 euro 1.900 euro soltanto metti a cavalletto quel quadro per favore via attenzione a chi ha perso la precedente perché loro sanno quanto costano questi artisti ancora un lavoro straordinario di Daniele Mariani un pezzo unico il grande fotografo la fotografia sta andando ripeto sempre più forte questa è una fotografia originale di Daniele Mariani in galleria si vende a cifre molto importanti 490 euro soltanto 490 euro soltanto cos'è Robby eh si che ha ecco è un'opera sensazionale veramente sensazionale questa è l'opera numero 100 se volete vederla basta chiamare e dire la numero 100 grazie possiamo toglierla grazie Fabio e passare al numero 101 il bellotto il numero 101 la bottega del bellotto attenzione una bottega una bottega del bellotto siamo nel 1600 4500 l'offerta 1700 euro soltanto amici stupendo stupendo veramente stupendo gran bel quadro via Sandro Chia incisione tutta dipinta da lui è il numero 102 interamente colorata dipinta da lui ebbene offerta 2500 euro il prezzo a 1500 euro soltanto Sandro Chia via una composizione importante questa invece è il 103 adriass Alexander cacciagione 2500 euro e il prezzo siamo alla fine del 700 750 euro stasera a 750 euro via bello questo nudo molto molto bello mi piace tanto Ada Schalk l'opera è la numero 104 3.500 euro 1200 euro soltanto adesso lo possiamo togliere via e un grande maestro napoletano di caposcuola Nicola Stecorsi un quadro fenomenale un grande dipinto questa è l'opera di Nicola Stecorsi è un grande quadro attenzione non è il quadrettino carino perché misura 70 per un metro 0,4 costa 12.000 euro attenti 4.200 euro soltanto il magnifico Nicola Stecorsi e passiamo all'opera all'opera seguente dunque il numero 106 mamma mia mamma mia mamma mia Salvatore Dalì il padre del surrealismo in vendita in Galleria Orlando a 3.500 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 l'irriverente Salvatore Dalì l'opera numero 106 grazie numero 107 una importante composizione una cascata di frutta le susine del 1.700 l'opera è la numero 107 ius lefebvre costa 7.500 1.900 euro via Alessandro Gabbia timide presenze il ciclo di opere di questo artista il numero 108 l'opera in visione 60 per 80 in Galleria si vende a 4.500 2.750 150 euro vai attenzione attenzione allora amici tra poco divertitevi adesso a prenotare questi capolavori a prezzi impossibili ma tra pochi minuti sono le 23 ci spostiamo in un altro spazio dove vi faccio vedere il dipinto più importante che si è mai passato dalla Galleria Orlando bene tra pochi minuti un'altra sorpresa intanto questa opera numero 109 Mattia Pretti una scuola di Mattia Pretti del 712.000 la stima 3.900 euro l'offerta via una straordinaria opera di un grande nome di una grande firma come non mai perché questo è Peter Muller detto il Cavaliere Tempesta allora il quadro grazie Alessandro è poco televisivo lo vedete particolarmente scuro perché ha bisogno di luci vere non di queste luci seppure l'impianto è professionale ma nonostante questo non sono luci adatte per questo quadro Peter Muller il grande maestro delle battaglie navali detto il Cavaliere Tempesta è proprio lui siamo nel 1600 e l'opera numero 111 costa 12.000 euro questa è la stima sentite qua amici 2900 euro soltanto ripeto 2900 euro via e un altro grande nome è Peter Rose questa volta detto Rosa da Tivoli siamo a Roma e questo paesaggio splendido di Peter Rose un altro obiettivo immancabile nel collezionismo l'opera è la numero 112 offerto cosa 4.500 soltanto beh attenzione 1700 euro via Giovanni Francesco Gonzaga una serigrafia una composizione su tela offerta numero 113 a 290 euro soltanto firmata da lui e certificata via l'opera numero 114 è questo santo nel paesaggio di una scuola veneta del 1700 costa 7500 euro San Pietro a Roma ebbene attenti amici 1700 euro un dipinto di alta epoca così via attenzione al numero 115 perché il 115 ci racconta Sant'Antonio da Padova il miracolo di Sant'Antonio una scuola veneta del 1700 costa 9.000 3.200 euro soltanto via e Piero Dorazio il grande Dorazio un'opera del 1990 però l'opera in visione è una vecchia cosa d'altro spedio numero 116 offerto a 390 euro in Galleria si vende a 1200 390 euro via attenzione attenzione l'opera in visione è la numero 117 la conversione di San Paolo siamo nel 1700 alla fine del 700 costa 9.000 euro 3.500 euro l'offerta di stasera via bellissimo quadro bellissimo Antonio Sciacca i suoi manichini metafisici 50 per 70 olio su tela 60 80 olio su tela 2200 euro in Galleria 750 euro questa sera via e e attenzione perché siamo nella bottega di Francesco Hayez la bottega di Francesco Hayez e questo signore che vedete è Leonardo da Vinci altro dipinto altro quadro davvero realizzato in maniera storica bello ricco importante prezioso con la sua cornice coeva anch'essa dipinta questa è l'opera numero 132 già arrivo 4.500 euro la richiesta attenzione 1.700 euro soltanto via un ritratto di nobile stupendo lui è l'opera numero un attimo 134 l'opera in visione costava 3,5 sedete qua amici 1200 euro soltanto via bella lei bella ritratto di nobile una donna una nobile donna con tanto di ermellino quindi una donna di potere l'opera in visione che numero è questa 95 ha una stima di 15.000 3.900 euro soltanto 3.900 via Antonio Sciacca Antonio Sciacca olio su tela 50 per 70 60 per 80 è il numero 138 di archivio costava 2.200 euro 750 euro soltanto numero 139 una madonna con bambino splendida è una stupenda scuola di Raffaello costa 12.000 4.500 euro soltanto e ultimo dipinto di questa carrellata adesso poi vedremo altri 100 quadri le due sorelle ancora Antonio Sciacca olio su tela 2.200 euro 750 euro bene è la numero 144 ok costa la vendevo a 3.500 qualcuno può dire caro 1.700 euro soltanto per Salvatore Dalì via stupendo ripinto il numero 145 è un'opera del Boscaratti con espertise esterna scena importante di Ester che sviene davanti ad Assuero 14.000 euro la stima 3.900 euro l'offerta e il numero 146 è un capolavoro di Arturo Tosi il grande Arturo Tosi gran bel quadro la premissione numero 146 questo paesaggio è datato 1942 lo posso offrire questa sera a 12.500 euro Arturo Tosi via numero 147 è l'opera della bottega di Joshua Reynolds una nobile donna del 1700 a una stima di 12 offerto a 3.200 euro via il numero 148 è un paesaggio meraviglioso di Emil Karpov 5.70 le misure a 4.500 il suo prezzo bene 1.900 euro molto bene via e Alessandro l'opera in visione è l'opera che racconta questo profeta gran quadro bellissimo è l'opera numero scusami sono andato riesco devo muovermi 100 149 il bellotto l'eremita del bellotto del 1600 7.500 la stima 2.950 vai un paesaggio scusate un interno di Stalla l'opera in visione è la numero numero 151 questo Scott Stalla senti qua con codice coeva 3.200 euro il prezzo 900 euro l'offerta per lei 120 120 via novella parigini questa artista molto famosa per essere mi raccontava sempre papà mi raccontava direi come una grande salottiera romana lei intratteneva gli artisti nella sua casa di Roma e faceva queste serate all'insegna dell'arte e ha sempre dipinto questi gattoni grandi e lei in primo piano novella parigini è un pastello un pezzo unico numero 152 offerto a 390 euro 390 soltanto la cornice 390 euro soltanto via lui è Daniele Mariani il grande maestro della fotografia milanese con questo scatto pezzo unico offerto a soltanto 490 euro via una tempera della prima metà dell'ottocento è questo il dipinto numero 155 la cattura di briganti 5500 euro la stima 1700 euro soltanto mettia a cavalletto lui via una ballerina splendida bellissima è questa dipinto ad olio su tela firmato numero 158 arrivo firmato da Andrea De Marco 158 158 scusate 156 perdonate da Gastone Peirano scusate 1500 euro il prezzo 490 l'offerta vai il numero ah questo è stupendo è un interno bellissimo con questo personaggio mi piace molto questo quadro allora è il numero 159 ed è l'opera di Charles Bourne interno costa 2500 euro 750 euro soltanto tu guarda come è dipinto questo quadro i libri le pagine dei libri stessi firmato da Charles Bourne 750 euro e adesso Alessandro Merighetti vediamo il dipinto di Antonio Schiac ad ore su tela 2200 euro il prezzo di vendita in galleria 750 euro vai l'opera numero 161 è l'opera di Angelo Maria Crivelli firmata da Angelo Maria Crivelli un importante dipinto di Angelo Maria Crivelli 80 per 60 pensate un po' ha una stima di 15 mila euro guardate come è dipinto questo quadro per capire la bellezza e l'importanza dello stesso ebbene da 15 mila di stima a 5500 euro Sergio D'Angelo un importante dipinto di Sergio D'Angelo degli anni 60 l'opera in visione è la numero adesso vi dico 100 162 un 60 per 80 quanto costa? gli amici collezionisti di Moderno e Contemporaneo lo sanno perfettamente è un pezzo da 7 e mezzo 9.000 2.900 euro beh questo è Just Art 2.900 euro soltanto per Sergio D'Angelo grande il quadro di quelli davvero belli davvero belli meraviglioso spettacolare questo quadro il grande D'Angelo via un esterno di stalla questa è l'opera numero 163 per John Frederick Hering l'opera in visione ha una stima di 4500 euro a 1.000 750 euro soltanto via e a dir poco eccezionale questa scogliera dove vai? eh dirà non ci stanno l'opera in visione Amedeo Cianci la scogliera sul mare l'opera in visione misura 60 per 80 grazie mille 164 no 165 no 66 offerta 2500 euro 850 euro soltanto via e andiamo a vedere il numero 167 il numero 167 puoi mettere il cavalletto questo per favore è una composizione di frutta 167 di Alfio Graziani 1 metro per 70 5 e mezzo la stima 1.900 euro l'offerta vai andiamo a vedere adesso il numero 168 ritratto di nobile di Antonio Dugoni siamo nel 1800 7500 la stima 2200 euro l'offerta avanti bisogno e ancora Antonio Sciacca olio su tela 60 per 80 la misura a 750 euro occhi verdi vai bello bello questo paesaggio olandese questo fiume che scorre la cascata d'acqua per il mulino l'opera in visione è la numero 34 offerto a 2.900 euro vai è importante questa composizione l'opera che numero è questo ah quella di prima era la 170 quindi era 1700 era questo era il numero 171 questo olio su masonite di Adelio Colombo 2500 era il suo prezzo 9,50 l'offerta via bella bella questa composizione di Nicolai Grabar l'opera in visione la numero 173 290 euro per lei è un olio su tela e poi e poi ah fermi tutti perché questo è un capriccio strepitoso bellissimo il numero 174 signore e signori siete di fronte alla straordinaria luce magnifica del panini c'è l'uomo che ha dipinto i più bei i più importanti capolici in assoluto è strepitoso questo quadro guardate i chiaroscuri che è bellissimo bellissimo quindi siamo nel 1700 l'opera l'opera in visione costa 9.000 euro per forza la posso offrire a uno di voi a soltanto 2.900 euro 2.900 euro soltanto via andiamo a vedere quest'opera di Nicolai Grabar numero 175 a 490 euro cosa? esatto via Napoleone sul campo un olio su tela 60 per 80 questo è il numero 176 a 5.500 di stima 1.500 euro soltanto via Giovanni scusate prima questi cavalli è l'opera numero 177 60 per 80 2.200 390 euro per lui e Giovanni Francesco Gonzaga una importante serigrafia su tela 50 per 70 290 euro via magnifico magnifico questo bellissimo bellissimo dipinto tra sud amore a tutte le patrie scusate è la bottega di Paolo De Maio Giuseppe con bambinello del 700 7.500 la stima 2.200 euro soltanto un capolavoro sì via Mario Sironi ai 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 Mario Sironi olio come? sì Mario Sironi olio 50 per 70 mamma mia che serata è questa? vi dico è un 50-70 ad olio così importante sapete benissimo quanto costa potrei chiedervi 50-60 mila euro con questo quadro 24.500 euro un Sironi così non si era mai visto 24.500 via e adesso attenzione attenzione perché quello che vedete è una tela del 500 è una tela del 1500 del Moncalvo avete capito bene un capolavoro come questo vi dico subito questa è un'opera molto preziosa talmente importante qui però voglio la massima attenzione è il numero 181 Gilberto Caccia ha detto il Moncalvo una tela del 500 tu sai quanto costano certo perché siete un pubblico meravigiosamente variopintola da chi ama il moderno chi ama il contemporaneo chi ama l'alta epoca ma quando si parla di una tela del 500 le cose cambiano perché ha valore in tutto il mondo e sempre di più ora proveniente da una prestigiosa collezione l'opera la numero 181 ha una stima di 25.000 euro può costare meno perché oltre a essere una tela del 500 un'attribuzione così importante qualitativamente è strepitoso il quadro è bellissimo Alessandro accarezza il volto della Vergine della Maddalena sono qualcosa di favoloso bellissimo davvero e lo sapete a che prezzo ve lo porto a caso se volete grazie è l'opera numero 181 signore e signori a 4.500 euro 4.500 euro un dipinto del 500 di questa bellezza e importanza il numero 185 è invece questa splendida opera di Alessandro Valdosti datata 1903 che racconta questa Madonna con Bambino che ha una stima di 9.000 euro offerta a 3.500 euro via passiamo adesso alla splendida opera Giovanni Francesco Gonzaga questa è l'opera una screfia su tela la previsione a 290 euro soltanto vai ancora siamo nella bottega di Francesco Hayez 22 mila, pensa, 12 mila e 500 euro l'offerta, vai! Antonio Sciacca, figura di donna e melograno, 2.200 euro, 750 euro. Avanti, bellissimo. Guardate questo fiore, vai, questo straordinario fiore del 700, quanto mi piace. Ora, adesso lo vedremo un po' meglio. Guardate che meraviglia, è bellissimo. No, scusami. L'opera in visione è questo stupendo fiore del 700, davvero magnifico, con la sua cornice coeva. È così bello, perché è così ricco, è così profumato, è un capolavoro. È l'opera numero 189. Pensate, ha una stima di 9.000 euro, perché è un fiore del 7, vero? 3.900 euro soltanto. Molto bello. E adesso, Giorgio De Chirico. Incisione all'acqua forte, interamente colorata da lui. Che bella che è, lui è Agamonte. E quello che vedete in fondo a sinistra è la sua casa. L'opera in visione, 3.200 euro, colorato da lui. Tutto il cielo che vedete è tutto colorato da lui. Ebbene, attenzione, l'opera che vedete ha 1.500 euro. Via. Ah, bellino questo, questo è un amore. Questo ritratto di bambino con gorgera, delizioso. È invece l'opera numero 191, Salvatore Pedrazzesco. Un ritratto di fanciullo. 12.000 euro, la stima 3.200 euro. Questa sera l'offerta. Via. Questo è un dipinto fiammingo. Questo è un dipinto fiammingo a dir poco eccezionale. Bellissimo, perché poi la dipintura fiamminga va sempre più forte, costa sempre di più e lo sapete. E questa è un'opera splendida. Ebbene, attenzione. Baltasar van der Bosch, del 1600. 12.000. 2.500 euro. Dai, passo di qua, eh. Allora, spettiamo parlando di Baltasar van der Bosch. Quotazioni pazzesche. 2.500 euro. Beh, viva questa operazione, senza dubbio. Solo in questa occasione ti puoi avvicinare a quadri simili a prezzi del genere. Via. E andiamo a vedere questo dipinto ad olio a smalto su carta di giornale di Antonio Capone, che racconta una vecchia Polaroid. Numero 193. 1.500 euro, sì. Ah, non è una Polaroid? No, mi sa di sì. Tu non eri ancora nato, ma... Mi sembra di sì, sai, che un tempo le prime Polaroid erano mostruose. Non lo so. Ok, va bene. Robi, Robi, non so niente. Non lo so. Fantastico. Ok, andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti. Non so se è una Polaroid, eh, signori. Forse... Ah, c'è scritto? Allora, vedi che purtroppo la mia età si vede in certi dettagli. Allora, Pietro Antonio Magatti, un dipinto del 1600, questa opera di Pietro Antonio Magatti, attribuita a lui, ed è l'opera, dicevamo, 194 del 1600, l'opera è anche datata e firmata, 1645, 18.000 euro la stima, 5.500 euro l'offerta, vai! E il numero 195 è l'artista che tutti voi conoscete per le spreni di Venezia. Questo è un paesaggio di campagna di Mario Michele De Luca, costa 1200 euro, 390 euro. Via. Beh, allora, questo quadro ho deciso a malincuore... No, 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 era ancora più... Quella è già... Ah, ecco, vedi, esatto. Bravo, me la ricordo, purtroppo me la ricordo. Allora, ho deciso, in questa operazione Just Art, di inserire anche un pezzo strepitoso come questo, che è il numero 196, questo capolavoro di Antonio Balestra, con expertise del professor Lucco, uno dei più grandi esperti e luminari di storia dell'arte. E questo è un capolavoro di Antonio Balestra attribuito a lui, con un soggetto meraviglioso, numero 196, questo grandioso dipinto ha una stima di 45.000 euro e, nonostante questo, lo posso offrire a uno di voi, a 12.500 euro soltanto. La testa di Golia, Antonio Balestra, 12.500 euro, gran quadro. Via. L'opera che segue è invece la numero 197, ed è quest'opera della bottega di Rosa Rattivoli, Peter Rose, detto Rosa Rattivoli, un pastorello con armenti, costa 7.500 euro, 2.200 euro soltanto. Fermo. Poi, l'opera che vedete, questa è Natura, Morte e Composizione, è la numero 199, Jakob Bogdani del 700, 4.500 e la stima, 1.500 euro all'offerta di questa sera, e, attenzione, la prima volta che vedo questa sera Francesco Cecere, in tutta la carellata non c'era, un dipinto ad olio di Francesco Cecere, il grande Cecere, questo era il numero 200, ieri quelle che abbiamo presentato le avete portate via tutti, e, attenzione, ebbene, il numero 200, 30 per 40 alla misura, io li vendo a 1.200 euro, 390 euro soltanto, Francesco Cecere, avanti, è questa eccezionale opera di Giacomo Ponzi, questo artista della città di Parma, che dipinge Amplenair, un'opera stupenda, lascialo lì, vabbè, se non mi dimentico, questo è il numero 203, e l'opera in visione, 80 per 80, offerto a 2.250 euro, da sempre bene, 850 euro, 850 per lui, via, la Venezia d'Oriente, un dipinto ad olio su tela, il numero 204, che è qua, venuta con barche ad Istanbul, 60 per 1.20, offerto 2.500, 750 euro soltanto, Roberto, via, e lei è la mitica, splendida, Litz Taylor, Andy Warhol, ritrae Litz Taylor, autorizzata dalla Andy Warhol Foundation, from Visual Arts, la splendida Litz Taylor, costava 1.500 euro, questa opera in calidia, bene, attenzione, a 390 euro soltanto, a 390 euro soltanto, via, questa è in visione numero 207, ritroviamo le splendide Venezia di Michele De Luca, l'opera della 60 per 80, costa 1.500 euro, 390 euro soltanto, via, è un vedo, aspetta, che numero siamo? ai ritratto di nobile, questo è il numero? 208, siamo a Venezia, ritratto di dama con perle, un'opera del 1.500, e l'opera in visione, offerta a 7.500 euro, 2.900 euro, Fabio, vieni un attimo qui fuori, tieni un secondo, attenzione, scusami, Bernardo Bertin, un rarissimo, importante alveol, il cosiddetto, è un'alveola del 90, di Bertin, archiviato, opera particolarmente bella, e preziosa, questa è libera, se questa è libera, me la tiri fuori, quella Venezia, ti mando Alessio, Alessio vieni qua, allora intanto, questo alveol, scusate, come faccio? L'opera in visione, datata 1990, allora io quello che dico, io so che alcuni di voi, si sono un po' disamorati, su Obertin, perché, qualche cialtrone, effettivamente ha messo fuori, opere di Obertin all'infinito, a prezzi molto bassi, del resto, l'iperproduzione degli ultimi anni, ha causato questo abbassamento del mercato, ma è lì che dovete agire, l'opera è del 90, e stiamo parlando di un grande genio, questo è Bernardo Bertin, è un alveol del 90, è importante, vuol dire un pezzo da 12 mila euro, riesci a metterla a cavalletto? Ah, va bene, ah, perfetto, molto bene, volentieri sì, quindi, attenzione al prezzo, perché il primo di voi che mi chiama, io glielo porto a casa, un alveol del 90, opera geniale di Obertin, a soltanto 3.200 euro, signore, signori, 3.200 euro, un'opera del grande Obertin, così importante, davvero splendida, è geniale, è geniale, va bene, possiamo toglierla, e passare al prossimo, il prossimo è un paesaggio, il numero 210, dai, è l'opera di Leonard Part, dipinto del 1800, 2500 euro, il prezzo 900 euro, l'offerta, il grande maestro Fiammingo, che racconta questo ingresso nel porto, costa 12.000 euro, 4.500 euro, devi andare dietro, al quadro per vedere, sotto, e, grazie Alessandro, e, poi, l'opera che segue, l'opera del grande Paglietta, datato, 1967, un olio su tela del Paglietta, del 67, l'8213, da 5.500 euro, archiviato e pubblicato, però, offerto, a 1.700 euro, soltanto, e, grazie Fabio, il numero 214, mamma che bella, che bella, una sacra famiglia, a dir poco, eccezionale, splendida, quest'opera, bellissima, l'opera in visione, la numero 240, no, 214, mischero, ok, 86, 12.000 euro, la stima, 2.900 euro, per lei, allora, gentili, signore e signori, in, in questi anni, durante, le trasmissioni del Bizz, che abbiamo fatto insieme, mi ho assegnato, delle sprendide, Venezie, delle scuole del Bellotto, delle scuole, importanti, delle sette, c'è, dell'800, del novecento, ma, quando si parla di Venezia, la Venezia, più richiesta, dal collezionismo, di tutto il mondo, perché gli artisti, che dipingono Venezia, ne puoi trovare tanti, ma, quando si parla, di una Venezia, come questa, allora le cose cambiano, facciamo un salto, nel tempo di 300 anni, e, signore e signori, una piazza San Marco, a Venezia, del settecento, così bella, della, magnifica, bottega, dell'Albotto, a, 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 Francesco, Albotto, mamma mia, amici, quindi, dimenticate, tutte le Venezie, che potete aver visto, è chiaro, che arrivare, a una Venezia, dell'Albotto, vuol dire, spendere, dai 50, ai 60, mila euro, senza battere ciglia, questo, è un capolavoro, della bottega, dell'Albotto, spettacolare, e l'avete trovata, in una trasmissione, di Vorlando, è autorizzato, ad abbassare le riserve, e lo sai, a che prezzo, la puoi prenotare, senza impegno? A, 4.500 euro, mamma mia, che cos'è, amici, la cornice, coeva del settecento, Alessandro, avvicinati, guardate le finestre, l'orologio, una piazza San Marco, del settecento, della bottega, dell'Albotto, bellissima, a soltanto, 4.500 euro, è favolosa, è veramente favolosa, davanti a quella, fantastica, veramente fantastica, quindi, a 4.500, state pensando, se prenotarla, o non prenotarla, ho posto con le bolle, come? Tiratele fuori, allora, sì, amici, forse non sono stato, abbastanza chiaro, ve la sto offrendo, al prezzo di un seguace, ve la sto offrendo, al prezzo di un ambito, questa, è la bottega dell'Albotto, a 4.500, costa 40.000 euro, un quadro così, via da bravi, dice no, ma Orlando, è mezzanotte e mezza, questa non è la Venezia carina, meravigliose, 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 chi vuoi? Alessio, ti vuole? va bene, io la lascio a voi, amici, allora, grazie Alessandro, vi vado a presentare, l'ultimo quadro, per questa sera, se avete una domanda, una richiesta, fatela adesso, altrimenti ci salutiamo, sull'ultimo dipinto, questo capriccio, della bottega del Panini, meraviglioso, meraviglioso, un salto nel tempo, di 300 anni, Roma, stupenda, veramente stupenda, Alessandro, chiedono di rivedere, l'otto 201, 202, 201, e 202, tra un istante, li rivediamo, aspetta un po', sì, sì, le 202, quest'opera, è stata confermata, la Marilyn 71, la Marilyn 71, grazie, ora, un capriccio del Panini, di questa bellezza, dove l'avete mai visto, ditemi, ve lo ricordate, un capriccio del Panini, di questa bellezza, dove l'avete visto, è strepitosa, questa opera, strepitosa, se vi chiedessi, 20 mila euro, direste forse, un po' caro, direi di no, bene amici, 2500 euro, questa operazione, è incredibile, qualunque antiquario, meno di 20, non te lo fa vedere, è strepitoso, 2500 euro soltanto, bellissimo, ringrazio la gentile signora, signore, che ha chiesto di rivedere, questi due dipinti, sono il 201, in visione adesso, viene proprio indietro, se no non ce la fanno, e il 202, il 201, a sinistra del teleschermo, e il 202, a destra del teleschermo, vuoi fare un fermo di immagine, che mi sembra un'ottima idea, eccoli qua, naturalmente, la gentile signora, che le ha richiesti, li può vedere anche entrambi, senza impegno, e poi sceglie, questi due, fantastico, va bene, scusate, io voglio, voglio far rivedere, questi due quadri, poi vi saluto, se non avete altre domande, ve le voglio far rivedere, Alessandro, che mi, veramente mi sembra un sogno, aspetta che metto anche un chiodin, chiodin, se vuoi usare un po', arrivo, martellino, andiamo, io con quello non so fare, allora, io vi saluto, e vi ringrazio, su questi due quadri, ripeto, a meno che, non abbiate un'altra, richiesta, o domanda, torniamo in diretta, bravo su questi, leggi, sulla pagina, le rivediamo, cos'è che dice? esatto, esatto, 2.545, ecco, è lì che ti volevo capire, quindi, io vi devo salutare, meno che non ci sia una domanda, una richiesta da parte vostra, mezzanotte e 34 minuti primi, fai tu, direi di sì, se avete una domanda, fatela adesso, ma, un consiglio, avete prenotato tante opere stasera, e come al solito vi ringrazio, domani sera faremo ancora follie, continuiamo questa operazione davvero incredibile, ma, la domanda, logica, io portarvi un quadro, due o tre faccio la stessa fatica, date, non avete nessun impegno, non è che dovete comprare tutto quello che prenotate, ma, lasciare due capolavori come questi, una Venezia del 700, di quella bellezza, e un capriccio del panini come questo, 2500 euro, e, 4 e mezzo, no, tanto, sai, non so dove metterla, ho la parete piena di quadri, lo so che avete le pareti piene di quadri, le ho viste le vostre pareti, avete le case piene di quadri, ma questi sono due capolavori, questi sono due capolavori, già start, avanti amici, se avete domande, altrimenti ci salutiamo, su questi due quadri, davvero splendidi, e offerti a un prezzo davvero, pazzesco, è proprio bella quella Venezia, veramente, veramente bella, grazie a tutti, Attenzione, entriamo in un'altra bottega straordinaria, quella di Bartolomeo Schedoni, certo che si vede la differenza quando si parla di un seguace e quando si parla invece del maestro che ha eseguito, guardate lo spettacolo di questa deposizione, la bottega è quella di Bartolomeo Schedoni, una deposizione di Cristo fantastica, dipinta in maniera incredibile, tutti i personaggi, vieni, guarda, mamma mia che pezzo, che pezzo è questo, ora, la stima di questo capolavoro è di 25 mila euro, grazie, da questa collezione, ancora 300 quadri a vostra disposizione, dai cavode regali di Orlando, con questa operazione che piace da impazzire, ed è questa Just Art, che è la prosecuzione di questa operazione che abbiamo fatto del compleanno, il primo marzo del 2020, abbiamo festeggiato cinque anni, che siamo con voi tutte le sere in diretta, entriamo in punta di piedi in casa vostra, e devo dire, una giornata molto speciale quella di oggi, molto speciale perché oggi ho avuto la conferma che settimana prossima, dalla salotto più elegante d'Italia, in Toscana, presenteremo la collezione di dipinti antichi più importanti nella storia del mondo, e questa è una cosa favolosa, non vedo l'ora di annunciarvi il giorno esatto, ma sarà sicuramente la settimana prossima, stiamo facendo grandi cose in Galleria Orlando, cresce questa febbre di collezionismo sempre più importante, e questa sera vi metto a disposizione più di 300 quadri di misura più contenuta, così siete felici, perché tutti quelli che dicono no, più spazio, non so più dove metterli, Orlando, ho la casa piena di quadri, non so più bene, 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 amici non ci sono scuse, con questi prezzi, con queste follie che stiamo facendo, dove in questa operazione, che è già a start, come ho già spiegato, il contemporaneo, ciuffo, è un ciuffo ribelle, è un ciuffo ribelle, bene così, vi dicevo, questa operazione dove il contemporaneo è un sottocosto reale, e tutti i dipinti antichi, ringrazio la proprietà, hanno ribassato notevolmente le riserve, quindi direi qualcosa di meraviglioso, funziona? Non più, avete parlato con, andrà domani? Chissà, va bene, cibo per l'anima, 300 quadri a prezzi strepitosi, questa sera, in un'occasione davvero unica, per divertirvi, a fare un collezionismo sano, di quelli giusti, con un dipinto moderno, un dipinto antico, un dipinto contemporaneo, insomma, un alternarsi, anche stasera, trascorreremo insieme, e vedremo passare davanti alla telecamera, 500 anni di storia, quindi direi che veramente, è qualcosa di meraviglioso, e io non vedo l'ora di iniziare, perché? Perché sono 300 quadri, in poco tempo, quindi dobbiamo correre, oh, io devo correre, ma è anche vero, come sapete che siamo in diretta, quindi niente di più semplice, chiamare questo numero, appena vedete un quadro, ci aspetta un attimo Orlando, l'ho visto troppo velocemente, fermati, torniamo indietro, e mostriamo a voi, quello che volete rivedere, con più attenzione, è chiaro, voi potete prenotare, prenotare tutte le opere che volete, vederle gratuitamente, o a casa vostra, quando avete tempo o voglia, o da noi, quando si può, ebbene, se vi piacciono, i quadri che scegliete, li acquistate, altrimenti amici più di prima, li rimettiamo in un'altra gara, in un'altra situazione, quindi potete prenotare, tutto quello che volete, direi che ne vale la pena, visto che questi prezzi, sono soltanto, per questa operazione, che si chiama Just Art, che ho voluto accendere, per cercare di non pensare, a quello che l'Italia, sta attraversando, in questo periodo, e allora divertiamoci, a fare un collezionismo, questo è sempre, qualcosa di magnifico, investire sulla pittura moderna, antica e contemporanea, a condizioni straordinarie, detto questo, abbiamo subito, iniziamo con il numero uno, ed è un piccolo tesoro, attenzione alla bellezza, di questo quadro, perché è un gioiello, è un antico fiammingo, una tavola, piccola ma molto preziosa, ed eccolo qua, dunque, questo ritratto di pittore, costava 2200 euro, bene, 950 euro soltanto, ed è il dipinto numero 401, allora non fate caso alla numerazione, stiamo iniziando dal numero 401, poi perché sono degli inserimenti, voi memorizzate il numero, a prescindere della, della, come si dice, del fatto che non siano, della non progressività, del numero, ok, è il 401, via, il 402 è un grande maestro surrealista, lui è Luca dall'olio, questo dipinto ad olio su tela, misura 24 per 24, io lo vendo in galleria, a 1500 euro questa misura, 850 euro questa sera, per l'operazione Just Art, splendida, opera del grande dall'olio, questa notte di stelle, andiamo a vedere poi il numero 403, e attenti collezionisti, perché qui siamo di fronte a qualcosa di maestoso, cominciamo col dire che siamo nel 1600, ed è una Madonna con bambino, attribuita a Franz Franken, attenzione, Franz Franken, ha una stima di 11.000 euro, quanto che si dice davvero, no? uno pensa, quadro piccolino, allora costano meno, assolutamente no, quando trovi un capolavoro di Franz Franken, attribuito a lui, espertizzato, è chiaro che le cose cambiano, e questo è un gioiello di Franz Franken, espertizzato, costa 11.000, 2500 euro, ai ai ai, è un rame di Franz Franken, un rame strepitoso, a soltanto due e mezzo, ed è il numero 403, possiamo toglierlo, è il numero 405, Cristo e la Veronica, è un dipinto fiammingo del 1600, che ha una stima di soltanto 9.000 euro, un altro capolavoro, sapete che c'è un collezionismo importante sui rami, questo è lo straordinario rame, importantissimo rame fiammingo del 600, che posso offrirvi questa sera, a soltanto 2.500 euro, via! Passia, che simpatica questa opera, questa che vedete, è questa litografia firmata da Jacques Binard, sono dei ragazzi di spalle, l'opera in visione costa soltanto 500 euro, è un grande artista, questo è quotato, 290 euro per lui, Jacques Binard, simpatico questo dipinto, via! Il numero 407, è invece quest'opera ad olio, di Attilio Morelli, attribuito al Morelli, è una madonna splendida, che costa soltanto 5.500 euro, ma questa sera scende a 1.700 euro soltanto, splendida opera, via! Andy Warhol, The World Fascinate Me, con la firma in basso a destra, il grande Warhol ci racconta questa opera bellissima, perché? Perché è un'opera autorizzata dalla Andy Warhol Foundation for Visual Arts, e pensate, si vende a 1.200 euro, 390 euro soltanto, Andy Warhol, questa opera favolosa, che ci racconta il mito del re della pop art mondiale. Grazie Fabio. E il numero 411, è questo dipinto firmato da Alfonso Cassini, con una splendida cornice, coeva, l'opera costava, ai ai ai, 1.500 euro soltanto, 290 euro. Avete capito bene? 290 euro con una cornice, che solo lei, cosa vale? è il numero 411, grazie Fabio, passiamo al numero 411, fermi tutti, fermi tutti. Questa è una Parigi, l'opera in visione, la 412, è un dipinto impressionista, che racconta Parigi, come non mai, attenzione, è veramente bellissimo, una misura 15 per 20, una cornice, coeva splendida, signore e signori, costa 4.500, questo è veramente il dipinto da bottega dell'antiquario, preziosa, amici, 1.500 euro, vi ricordo, per chi non lo sapesse, che questa è la galleria Orlando, non siamo una televenita, ma una galleria, e non vendiamo niente, né al telefono, né in televisione, chiamare questo numero, vuol dire solo poter vedere, quando e dove lo decidete voi, ma se chiamate adesso, a prezzi abbattuti, da questa straordinaria operazione, che è già start, cibo per l'anima, ma attenzione a lui, quindi, e non solo se, che lo scusa Alessandro, se decidete di acquistare l'opera, ho detto se, sarete voi a decidere, come pagare, quando pagare, in che modo pagare, con che sistema pagare, i pagamenti decidete voi in Orlando Art, questo è veramente un amore, bellissimo, ci ripeto ancora una volta, chiedo scusa per la velocità, ma ho 300 quadri da mostrarvi, e sono tutti pezzi unici naturalmente, quindi è normale, che devo andare veloce, ma siamo in diretta, in qualunque momento puoi chiamare e dire, sto porlando, fammi rivedere quello o quell'altro, senza alcun impegno naturalmente, che bello che lui, è il ritratto di Nobile, numero 414, di un seguace di Andrea Piani, che ritrae il marchese Malfanti, l'opera in visione, ha una stima di 2500 euro, 750 euro soltanto, via, ah ah ah, fermi tutti, attenzione, perché quella che vedete, è una tavola, sprendita dei primi anni, del 1600, mamma che bella che è, che bella che è quest'opera, una tavola che ha 400 anni, e numero 416, costa 9000 euro, 2500 euro soltanto, 2500 euro soltanto, grazie Alessandro, grazie Alessandro, numero 416, a soltanto due e mezzo, bene, è l'opera numero 416, ok, via, si passa, numero 417, quadricomia geometrica, astrattismo puro per Perez, l'opera in visione, costa 1.290 euro soltanto, 290 euro, penso un po', e attenzione, attenzione, il numero 418 è questa Madonna con bambino di Paolo Cagliari, detto il Veronese, la puoi inclinare un pochino per favore, mamma che bella che è, questa Madonna in trono splendida del Cagliari, quadro eccezionale, allora vediamo subito la musica, 418, costa 5.500 euro, questa è la sua stima, 1.400 euro soltanto, un dipinto del Veronese, Paolo Cagliari, detto il Veronese, a lui attribuito a 1.400 euro, è stupenda quest'opera, ed è il numero 418, se volete vederlo, via, il numero 419 è questa importante opera di Martino Gorno, Martino Gorno è il grande maestro erede dei Mimmo Rotella con i suoi decollage, teniamo inclinato il quadro, è uno dei suoi decollage, piccolo ma molto prezioso, il numero 419, l'opera in visione, la si vende in galleria a 1.200 euro, 290 euro soltanto, via, attenzione, attenzione, qui il collezionista più attento avrà riconosciuto un capolavoro, il numero 420, è una straordinaria, sacra famiglia, del primissimi anni del 1600, è una tavola del 600, eccezionale, queste sono quelle cose che veramente fanno impazzire i collezionisti del mondo, numero 420, costa 7.500 euro, 2.900 euro soltanto, ma ma che bella che è, che bella che è, è uno spettacolo, 400 anni di storia, via, il numero 421, Francesco Cecera, la ricerca della luce, questo è un quadro magnifico, un dipinto ad olio su tela, che misura 30x30, si vende a 1.200 in galleria, 390 euro soltanto, via, attenti, Virgilio Guidi, olio su tela, l'incontro, attenti a questo nome amici, parliamo di Virgilio Guidi, è datato 1970, offerto a 3.700 euro soltanto, che bello che è, incontro metafisico nello spazio, via, splendido questo San Giuseppe Bambinello, un dipinto ad olio su tela, il numero 423, che racconta San Giuseppe, dicevo il bambino, un'opera stupenda, la codice è coeva, offerto, attenzione, a soltanto 2.700 euro, gran bel quadro, via, passiamo adesso ancora a lui, Francesco Cecere, olio, 30x40, 1.200 la vendita, 390 euro l'offerta di stasera, via, e attenzione a questo capolavoro, un capolavoro vero. L'opera in visione, che è la numero 425, è questo dipinto ad olio su tavola di Vincenzo Volpe. Vincenzo Volpe è un artista che costa un sacco di soldi, ma il mio pubblico è un pubblico di conoscitori, l'opera è firmata da Vincenzo Volpe, lei è la castagnara, sta, vedete, cocendo le castagne, è una tavola di Vincenzo Volpe, bellissima la cornice che possiede, l'opera in visione costa 4.500 euro, bene, 1.700 euro soltanto, un vero gioiello. L'opera in visione, dunque, se volete vederla senza impegno, è la numero 425, via. Numero 426 è un'opera unica, straordinaria, del 1990, ripeto, del 90, di Bernard Auberton, il grande genio Auberton, uno dei suoi disegni di fuoco, il grande genio, le cui opere sono presenti in tutti i più grandi musei del mondo, e lo sapete, questo è un pezzo unico, 426, in vendita in Galleria Orlando a soltanto 2.200 euro, 550 euro, è un'operazione straordinaria quella di stasera, ti rendi conto, tu mi chiami, io ti porto a casa, un pezzo unico del grande Auberton a 550 euro, i multipli costano di più, questo è un pezzo unico del 90, non anni 2000, mi sono spiegato? Del 90, ok? Questo è il magnifico 426, attenzione a lei, amici, mamma che bella che è, ancora una straordinaria tavola, siamo a Firenze, nella 1600, e la luce che vedete è quella di Carlo Dolci, mamma che bella che è, opera numero 427, costa 9.000 euro, beh ti credo, allora, siamo nella bottega di Carlo Dolci a Firenze nei primi anni del 600, ora, come sapete la proprietà di questi quadri mi consente di ribassare notevolmente le riserve, in occasione di questa operazione che stiamo vivendo in questi giorni, e uno di voi adesso mi chiama, e la potrà vedere senza impegno all'acquisto, a 2.200 euro. No, no, attenzione, non stiamo parlando di scuola, di ambito, di cerchia, parliamo di Carlo Dolci, una bellissima opera, ed è la numero 427, 2.200 euro. Questa è l'opera 427, e vediamo adesso il 428, è un dipinto ad olio su tavola, di un artista russo, Nestoruk Sergei Mikalovic, l'opera era offerta a 1.200 euro, 290 euro soltanto, due lavoratori, 290 euro per lei. Via! E cosa dire di questo veliero, una marina sprenita di Vladimir Poonin, altro artista russo importante, 30x40 la misura, 290 euro anche per lui. E ancora un dipinto affascinante di uno dei più attraenti maestri surrealisti italiani, lui è Luca Dall'Olio, l'opera la numero 430, costa 3.500 euro, un 40-50, 3.500 in galleria il prezzo, 1.700 euro l'offerta. Via! E è il momento di ancora alta epoca, uno straordinario dipinto, questo che vedete, che è il numero 431, Agostino Scilla, un San Francesco del 1700, magnifico, costava 3.500, euro 1.200 euro soltanto. Via! E adesso è un artista che io amo molto, ho avuto anche il piacere di intervistarlo, lui è Silvio Giovanni Viola, una magnifica opera di questo artista che piace tanto, misura 30x40, ha 290 euro soltanto questa sera, pensa cosa costa in giro, è un magnifico dipinto, pezzo unico, ed è l'opera numero 432. Via! Il 433 invece quest'opera, una tavola, non è su tavola, un paesaggio che misura 34x44, 2.200 euro, 550 euro l'offerta. Il grande Martino Gorno, questo è uno dei suoi decollage, questo artista piace da matti anche perché è stato definito l'unico vero grande erede di Mimmo Rotella con i suoi decollage. L'opera in visione, l'opera in visione numero 437, arrivo, costava 1.200, 390 euro soltanto. Via! E cosa mi dite di questa incisione che racconta la novena, vedete in chiesa? Bellissima incisione, un'incisione dell'Ottocento, l'opera è la numero 439, offerta a 290 euro. E cosa mi dite di lei? Questa straordinaria ritratto di nobile donne con la sciarpa rossa, raffinato ed elegante dipinto, questo è il numero 441, siamo nel 1700, l'opera in visione, dunque ne è un po', costa 4.500 euro, ha però un terzo esatto. Amici, 1.500 euro, è bellissima, è un vero gioiello. Stiamo offrendo dipinti antichi, questo a 300 anni, al prezzo di una stampa, questo invece è un originale, è molto bella lei, non fate caso a questi insulti del tempo della cornice, ve la farò restaurare perfettamente. Questa è l'opera numero 441, via. Numero 443, andiamo in Inghilterra per questo dipinto che racconta questo cavallo con il puledrino, un amore, un amore, 30x40 le dimensioni, l'opera numero 443, è del 1870, 1.500, il prezzo è 550 euro. Bernard Obertin, un disegno di fuoco del grande Obertin, attenti, datato 1973. 1973. Bernardo Obertin, 1973. Chiaro? Attenzione amici, le opere storiche di questo artista costano cifre giustamente importanti e infatti numero 46, 50x65, costa 9.000 euro. Attenzione, il primo di voi che mi chiama potrà vederlo senza impegno a 2.900 euro. Questo non è un'opera del 2000, è datato 1973. 2009, non ve lo fate sfuggire, stupendo. Grazie Fabio. Luca dall'olio, questo dipinto ad olio su tela, l'opera è la numero 448, costa 3.500 euro, è un 40x40, 1.700 euro soltanto. Il grande Luca dall'olio, bella, bella, bella quest'opera. E un numero 49, questo importante dipinto ad olio di Francesco Cecere, è un 30x40, io lo vendo a 1.400 euro, 390 euro soltanto. Ripeto, 390 euro soltanto. Gran bel quadro, gran bel quadro, davvero. Via! Passiamo a, guarda che spettacolo. Questo che vedete è il numero 451, un paesaggio di campagna, siamo in Toscana, la bella Toscana, costa 1.500 euro, 490 euro soltanto. Un borgo antico in Toscana. Bravo, ok. Molto bella quest'opera. E, avanti, grazie, signore e signori, una tableau clou di Bernard Obertin, un grande e importante tableau clou di Bernard Obertin, la tavola di Chiodi. Opera archiviata, la lascio un attimo, e, attenzione, datata, 1968. Bernard Obertin del 68, un tavolo clou così, vuol dire oggi 25.000 euro. E nessuno può dire il contrario. Non ci dimentichiamo che lui è il grande maestro che ha dipinto con Yves Klein, il grande maestro di fama internazionale, come Armand, come Cesar. Lui era il maestro che dipingeva con il fuoco. Dove va? Ah, ok. Un tableau clou. Ma, attenzione, questo è grande, è importante, è importante, perché misura 50 per 50. E lo sai, questi sono gli affari d'oro, veramente, ma sono queste le opere da prenotare quando un uomo fa prezzi, come Orlando questa sera, fa dei prezzi del genere. Un tableau clou così del 68. Spero che mio padre non veda quello che sto facendo, perché questi sono quadri impossibili da trovare. Allora, numero 454. Orlando lo vende a 18.000 euro in galleria. Se non lo vuoi non lo vendo. 7.500 euro. Hai capito bene? 7.500 euro, un tableau clou del 68. Ai 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 che serata. Magnifico, magnifico. Via, 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 veloce, veloce. Il numero 455 è questa splendida Venezia. L'opera in visione è una Venezia firmata da Ieno-Coscol. L'opera in visione ha una stima di 4,5, 1.700 euro soltanto. Guarda com'è dipinta. Guarda com'è dipinta. E adesso uno dei miei grandi amori. E lui è Giacomo Ponzi. L'opera in visione è un olio su tela del grande Giacomo Ponzi, questo artista che nasce nella città di Parma, definito l'artista che dipinge con la tavolozza di Van Gogh. Tanto è la sua forza. Una pittura materica, molto viva, importante. L'opera in visione 60x60, numero 456. Io la vendo a 1.500 euro. 550 euro. Via, via, via. Eccolo qua. Ma che meraviglia è lui. Guardate questo bambino. Che cosa stupenda. L'opera in visione è la numero 457. Siamo nella bottega del Cignani. Questo puttino addormentato costa 2.500 euro. 950 euro. Cioè è un'opera del 1600. È un'opera del 1600, amici. Con la sua cornice coeva. 950 euro. Via. Martino Gorno, il grande, unico, vero, grande erede di Mimo Rotella, con uno splendido suo decollage. È un 40x50, si vende a 1.500 euro. In galleria 390 euro soltanto. È il numero 458. Numero 459. Signore e signori, Jean-Paul Dupré è un disegno che racconta la porta messina di Taormina. Ha una stima di 9.500 euro. È firmato da Jean-Paul Dupré. 2.900 euro soltanto. Via. È un artista russo, quello che segue. Un importante astrattista russo. L'opera è datata 1924. È molto molto bella, perché questa notizia che costa un sacco di soldi, tra l'altro. L'opera, dicevamo, è la numero 460. Già rive. Offerta a soltanto 390 euro. Un pezzo unico di questo artista. Via. Guardate la meraviglia, la bellezza di questo dipinto, che invece è il numero 461. Uno splendido paesaggio con personaggi. Siamo nel 1700 e ti invito ad avvicinarti, a vedere la meraviglia di questo quadro, di come è realizzato, perché i personaggi nella parte bassa. L'opera in visione, numero 461, costa 4.500 euro. 1.700 euro soltanto. Questo è un dipinto ad olio su tavola. Il numero 463 di Jules Breton. Siamo nella bottega di Jules Breton. Ed è questo bellissimo bambino che ci guarda con questi occhioni nell'interno di casa. Guardate, è una cosa meravigliosa. Pensate che ha una stima di 7.500 euro. 1.900 euro soltanto. Ma vederlo a casa vostra non vi costa niente. Volete chiamare dire non so se vale per qualunque quadro. Non so se lo compro, lo voglio vedere. Ma ha una stima di 7.500. Jules Breton. Questa è la sua bottega. Ebbene, a 1.900. Facciamo vedere ancora perché è un amore questo quadro. È veramente molto bello. Ed è il numero 463, se volete vederlo. Poi, il numero 464 è un decollage di Martino Gorno, il grande e unico erede di Mimmo Rotella. L'opera in visione, uno dei suoi decollage, misura 40 per 30, costa soltanto, ripeto, soltanto 1.200 euro. 390 euro per lui. Grazie. E adesso, amici collezionisti, attenzione, attenzione. Guarda che spettacolo è questo. È l'opera numero 465. Siamo nella bottega di Sebastiano Conca. Amici, allora, io voglio ricordare a tutti voi che, immagino sappiate, ho recentemente una mostra importante di Sebastiano Conca. La gente fa le code nei musei per vedere questi quadri. Chiaro? Un'opera simile a questa di Sebastiano Conca è agli uffizi a Firenze. e lo sai perché è doppiamente importante? Questo è un rame, è un rame di Sebastiano Conca. No, no, non scuola, non cerchia, non ambito, ma è lui. Chiaro? È bellissima, è bellissima, bellissima. Un rame di Sebastiano Conca costa 9.000 euro. Dovete pensare che si vendono a 7.500 euro dei ramini piccoli così. Questo è un grande, un grande, veramente un grande, importante dipinto. Attenzione al prezzo, il numero 465, 2.900 euro. Ma lo so che tra voi ci sono i collezionisti che sanno perfettamente quanto costa e quanto vale un quadro così. 9.000 la stima. 2.900. Grazie. Il numero 466 è ancora un dipinto di un artista russo. Il numero 466, l'opera in visione, è firmata da Grigori Koubarov. L'opera costa 1.200 euro, 290 euro l'offerta. Via. Molto bella quest'opera. Un dipinto metafisico importante. Questa che è il numero 467, firmato da Ettore Anduino. L'opera costa 1.200 euro. 290 euro anche per lei. 290 euro soltanto. Un ritratto di un giovane, Lorenzo De Medici. Siamo a Firenze, amici. Un altro capolavoro. Guarda che spettacolo di quadro bellissimo. Lorenzo De Medici. Giovanissimo Lorenzo De Medici in questo dipinto ad olio su tela. L'opera in visione misura 40 per 50, ed è la numero 469, costa 5.500 euro. 1.500 euro. Vi ricordo. Aspetta Orlando, ma ho già prenotato tre quadri, quattro, cinque. Io portarvi due o tre quadri, o cinque, o sei, o dieci faccio la stessa fatica. Voi non avete nessun impegno all'acquisto. Volete prenotare tutti i quadri che volete, ben conviene con questi prezzi. E poi scegliete con calma quello che vi piace. Ma attenzione, perché i prezzi di stasera su questi gioielli, un ritratto di un De Medici a 1.500 euro. Questo vuol dire mettere in casa un quadro elegante, un quadro importante, davvero prestigioso. L'opera è la numero 469, se volete vederla senza impegno. Via! Il numero 470, ancora Mastroianni di scena, tutta colorata da lui. La premissione, dove sei qua? A 290 euro soltanto. E il numero 471. Sto ancora pensando a quello straordinario dipinto su rame del conca. Fabio ho bisogno di te, per favore. Cosa mi dite di questo capolavoro? Allora, amici cari, è un dipinto caravaggesco. Una Madonna con bambino così bella, caravaggesca. Siamo nel 1600, la cornice è coeva, costa 15.000 euro. 2.900 euro. Mamma mia che cos'è. Mamma mia che cos'è, amici. Mi dai l'altra nota per favore? Bellissima, bellissima, veramente bellissima. Se volete vederla senza impegno basta chiamare e dire il numero 471. Questo è da vedere. Grazie Fabio. Adesso attenzione, dal 471 abbiamo completamente numerazione e andiamo al numero 18. Non mi fate troppe domande, voi basta che ricordiate il numero. Il numero 18 è questo dipinto di Mario Lippi, un noto ritratto e l'opera emissione costava 2.500 euro. Bene, attenzione, 900 euro soltanto per lei. Mario Lippi. Via! Si passa all'opera numero 19 ed è questo dipinto di Bernard Fini, offerto a 290 euro soltanto. E poi il numero 20, grazie Fabio. Una seguace di Andrea Mainardi che racconta un San Girolamo particolarmente bello. Questo è un olio su tela, scusate i riflessi. Numero 20, costa 1200 euro, 450 euro soltanto. Cosa venite poi di questo carro con i buoi? Un numero 22, un dipinto meraviglioso, firmato da Marcello Viargi. È datato e firmato 1865, uno dei più importanti grandi allievi di Giovanni Fattori. Mamma che bello questo quadro, stupendo. L'opera emissione di Marcello Viargi costa 7.500 euro, 2.200 euro l'offerta. Via! Il numero 25, Ogolino Busoni, un disegno originale, un pezzo unico di Busoni. Con queste due donne in un interno, l'opera in visione costa 750 euro, 290 euro soltanto. Grazie Iole Roberto. 290 euro. Via! Passiamo all'opera numero 30 e quello che vedete è un San Giovanni Evangelista. Siamo nel 1600, offerto a 7.500 euro, la stima 2.900 euro l'offerta. Gran bel quadro. Gran bel quadro, davvero. Claude Vignon. E adesso, amici, un paesaggio bucolico eccezionale. Un altro gioiello è questo, numero 34. L'opera è in visione, questo paesaggio con buoi, che costa soltanto 3.500 euro. 1.400 euro per lui. Via! Martino Gorno. Martino Gorno, 40x40 alle dimensioni. Questo splendido dipinto, numero 35. 290 euro soltanto. Via! E guardate questi due angeli. L'opera in visione è un'opera del 1700, è la numero 36. L'opera in visione, numero 36. Tobia e l'angelo, siamo nel 1700. Costa 2.200 euro. Azzai, sentite qua, 450 euro. Un dipinto del 700. A 450 euro, Tobia e l'angelo. Grazie. Il numero 39. Martino Gorno, ancora di scena, questo decollage a 290 euro. Via! il numero 40. Non c'è ritardo in questo canale, è una cosa incredibile. Il numero 40 è questo paesaggio, numero 40, 46 per 30, costa 1.500 euro. 550 euro soltanto. Molto bello, davvero splendido è il 40. E attenzione a quello che arriva. Grazie. Andy Warhol, dai suoi miti, firmato da lui in basso al centro, la firma autografa. Cosa vuol dire? Vuol dire dipinto, opera realizzata da Warhol, quindi non un'opera postuma, non autorizzata dalla fondazione, ma fatta da lui, firmata da lui. Una delle istrani di Invitation da Leo Castelli Gallery. L'opera alla firma autografa di Warhol. È uno dei miti Superman. Questa è un'opera eccezionale, di grande valore. io la vendo a 3.500 euro in galleria. 1.600 euro. Andy Warhol, attenti qui amici, 1.600 euro soltanto. Beh, o stasera o mai più, perché è molto molto bella. Via! E lui è Bernardo Bertin, questo The Sandef, disegno di fuoco numero 43. Un pezzo unico di Bernardo Bertin. L'opera in visione, misura 35 per 21. Io la vendo a 1.200 euro in galleria. Grazie Alessandro, 390 euro. Ripeto, 390 euro soltanto. Via! Pezzo unico di Bertin a 390. E passiamo al numero 44, l'opera del Ribera. Questo si guace del Ribera, un San Giuseppe. Mamma che bello che è. Mamma mia, che quadro! Amici, ma quanti maestri riescono a dipingere così? Quanti? È uno spettacolo, un San Giuseppe così bello. Numero 44, costa 3.500 euro. 1.200 euro, amici. Via! Il numero 45, un dipinto ad olio su tela di Ernesto Treccani. 20 per 30 alla misura, il grande maestro Treccani, artista da comprare sempre, a 550 euro. ripeto, non voglio polemiche. Dici, ma come Orlando? Me l'hai venduta a 1.700, meno 2. Questa è un'operazione, si chiama Giast Artica, Orlando ha deciso di accendere in questi giorni. Per dimenticarci quello che stiamo vivendo, l'idea migliore è quella di fare un collezionismo sano, importante, con prezzi stracciati, ma solo in questi giorni. via, mi state dissanguando questi prezzi. Numero 46, altro quadro stupendo, questo Gesù nell'orto dei Gezzemani, un'opera del 1600. Guarda che meraviglia. Questo è il dipinto numero 46, Cristo nell'orto degli Ulivi, scusate, 2.500 euro, il prezzo 900 euro soltanto, l'offerta. Vai! E questo invece è un dipinto ad olio di Sergio D'Angelo, un dipinto di Sergio D'Angelo, numero 47, l'opera è datata a 1964, grande annata devo dire. Ebbene, 2.500 euro, 900 euro soltanto. Oh sì! Un dipinto originale di Sergio D'Angelo, del 64, un prezzo simile. grazie. E adesso andiamo in Toscana, un paesaggio toscano meraviglioso e questo è il numero 48, l'opera in visione. A un prezzo di soltanto 750 euro, 290 euro per lui, è un dipinto dell'Ottocento, la cornice coeva, molto molto bella. Via! E passiamo al numero 49, è un nudo maschile, un disegno dell'Ottocento, a 390 euro lei. Avanti. Ah ah! Ops! Amici, quella che vedete è una danza di fauni firmata da Pablo Picasso. Ripeto, una danza di fauni firmata da Pablo Picasso. è straordinaria questa dadmissione, veramente avete una scelta incredibile e voi potete prenotare tutto quello che volete, vederlo gratuitamente a casa vostra quando avete tempo e voglia, oppure da noi quando potete. Ora, un Picasso così domanda, chi ce l'ha in casa un Picasso, firmato da lui, firmato da lui. Questa è un'incisione splendida. Io la vendevo a soltanto 3.250 euro. 1.900 euro. Pensate per un istante a quale regalo straordinario state facendo la vostra casa e la vostra collezione e all'orgoglio di poter dire io in casa mia ho un Picasso, il più grande di tutti, la danza dei fauni. Bellissimo quadro. Mamma mia, vederla non vi costa nulla, è il numero 51 a 1.900 e via. Il numero 52, guardate questi scugnizi bellissimo dipinti ad olio su tavola. Guarda qua, ci stanno guardando, ci guardano e sorridono. È un inno alla gioia, sono splendidi questi ragazzi, belli, ma dipinti in maniera incredibile. L'opera in visione è la numero 52, ok, costa 3.500 euro, 1.400 euro soltanto. Bellissimo quadro. Grazie Fabio. Passiamo adesso, oh, attenti qua. Il numero 50 è questa scuola manierista del Settecento, una Madonna con bambino, costa 5.500 euro, 1.800 euro soltanto. Ma che bella che è, che bella che è, 1.800 euro, via. E attenzione a questo gioiello di Martino Gorn, erede, erede del grande, erede spirituale del grande Mimmo Rotella in questo suo decollage a 390 euro soltanto e un ritratto di ufficiale, ultimo dipinto di questa carrellata, numero 54 penultimo, meglio ancora, firmato da Salvatore, ragazzi, firmato da Salvatore Miradio. L'opera in visione, costava 4.500 euro, perché Salvatore Miradio è un grande nome, 1.200 euro soltanto. E ultimo dipinto di questa carrellata, il numero 55, è questa macchina acquarellata, firmata da Ettore Tamburino, datata 1972, offerta a 290 euro soltanto. Allora, amici, un suggerimento, ora vedo il centralino è già in tilt, non aspettate di vedere l'opera numero 300 se volete vedere una delle altre opere, rischiate di non trovarla più. Cioè, aspetta, Orlando, ma io vorrei vedere questo, questo, ma tu non è che devi comprare tutto quello che prenoti, ci mancherebbe. Tu puoi prenotare tutti i quadri che vuoi, vederli con calma e puoi scegliere. Ma attenzione, perché ci sono molti che dico, aspetta, li guardo tutti e poi chiamo. Errore, errore, perché rischiate di non trovarlo più. Quindi se c'è un quadro che già mi potrebbe piacere, tu puoi chiamare, dire, mettilo da parte, poi ne vedi un altro che ti piace di più, dici, non voglio quello, voglio quell'altro. Chiaro? Perché siamo appena all'opera numero 56, più 50, su 300 quadri ne abbiamo fatti vedere soltanto 100, ne avete ancora 200 da vedere, ok? Mettetevi comodi. E cominciamo subito dall'opera numero 56. Questo importantissimo dipinto fiammingo, grazie Alessio. Possiamo rivedere 452? Certo, grazie. Scusate, il numero 400, ma che dico 400? Il numero 56 è un dipinto fiammingo del 1600 che racconta il disco, costa 7500 euro, offerto a soltanto 1700 euro. Mamma mia! Un capolavoro come questo, un dipinto fiammingo così importante. Ma dimmi te, ma dimmi te. Via, 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 via. È stupenda questa china incisione che racconta a Parigi, alla Boulard Rouge. Guarda che meraviglia questa incisione. È il numero 57, offerto a soltanto 290 euro. Grazie, esoro. Passiamo a questo paesaggio. Il numero 58, già confermati quelli. Il numero 58 è questo dipinto di Richard Haines, un bosco. La previsione a 490 euro questa sera. E il numero 59, grazie Alessio. Uno splendido decollage di Martino Gorno, solo in questa tramissione e solo in questa operazione, a soltanto 290 euro. Via! Un paesaggio magnifico sulla costiera amalfitana, una previsione, un olio su tela, una previsione a 290 euro questa sera. Via! Bella! Bella, 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 bella. Qui siete di fronte a un altro capolavoro davvero straordinario, l'opera numero 66. Siamo nella bottega del Boucher, questo ritratto di Madame de Pompadour. Siamo nella seconda metà del 1700, costa 7 mila euro. 2 mila e 200 euro. Molto bella questa opera, intensa. È il numero 66 e attenti perché il 67 è ancora un lavoro di Martino Gorno, ma questo è un rarissimo frattage, cosiddetto. Lo vedete? Sono molto richiesti, costa 1500 euro in galleria. Frammenti, bellissimo quadro. Bene, attenzione amici perché se mi chiamate ora invece lo potrete vedere senza alcun impegno all'acquisto a 290 euro. Via, 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 via. Il numero 69 è questa china. Oh mamma mia che è un lungo senna. Siamo a Parigi, una china eccezionale. Una previsione firmata da Mario Signori a 290 euro soltanto. via, via. È un paesaggio, il numero 70, di Pietro Tonfoni. Tonfoni è uno dei grandi chiaristi toscani, insieme a Del Boni, insieme a Umberto Lilloni, uno dei grandi tempi della pittura chiarista, mi piace molto. Pietro Tonfoni, senti qua, costa 1200 euro. 290 euro. Ah, 1200 euro, 290 euro il grande Tonfoni. Bene, andiamo avanti. Ah, lui lo conoscete tutti, il grande Michele De Luca, con questa sua Venezia, un'artista che ha dipinto delle Venezia, è meravigliosa, la maniera degli impressionisti. L'opera in visione, dunque, che è il numero 72, arrivo, offerto a soltanto 290 euro, un dipinto ad olio su tela, 290 euro. Meraviglia delle meraviglie, costa 1200, anche lui. Che numero era questo qua? Ok. Bene, andiamo avanti e andiamo a vedere il numero. Oh, splendida lei, bellissima, bellissima, davvero bella, è questa incantevole figura di ragazza, bella, solare, ti viene voglia di abbracciarla e baciarla per com'è bella. Lei è veramente stupenda, scusate le spalle, stavo guardando la bellezza di lei. Numero 73, la scuola è quella di Antonio Mancini, costa 2200 euro, si vede, perché è un bellissimo quadro, 750 euro soltanto. Gran bel quadro, bello, 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 di quei quadri che mi piacciono, perché esprimono, raccontano una emozione forte. Bene, abbiamo visto, adesso andiamo a Venezia, andiamo a Venezia, questa piccola, deliziosa Venezia, un olio su tela, insomma piccola, 30 per 40, l'opera in commissione, offerta a soltanto 290 euro. 290 euro. Complimenti, bellissimo quadro dello Chardin. E guardate la bellezza di questa importanza di Bernardo Bertin, un olio, e si olio, un descendefeo, un disegno di fuoco del grande Bertin, 40 per 40, si vende a 2200 euro, 750 euro, un pezzo unico di Bertin. Molto, molto bello. Ed è il numero 80. Il numero 83, attenti con le stelle così, guarda, così si vede un meno meglio, ma che bella che è. Il numero 83 è uno straordinario ritratto di giovane dell'Ottocento, costa 2.200 euro, 750 euro soltanto, 750 euro soltanto, una bellissima cornice coeva. Passiamo al numero 84, un paesaggio campestre, un olio su tela, offerto a 290 euro soltanto. Ma che bellino è questo. E cosa vi dite di questo ritratto di Leonardo da Vinci? Un dipinto su tavola del 1700, a una stima di 4,5, offerto a 1700 euro. Alessandro, scusa, confermato il numero 82, Sciacca. Complimenti, via. Il numero 88, che bella la maestra della balia, è un'incisione dell'Ottocento, l'opera numero 88, ok, veniamo un po' qua. Offerta a 290 euro. Ma, fermo, ma allora, se fino ad ora vi siete divertiti a prenotare tante opere splendide a prezzi impossibili, siete pronti a vedere un top lot? Grazie Fabio. Attenzione, 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 perché qui, qui veramente non oso pensare, chi di voi si assegna un capolavoro del genere? Questo è una bottega di Jacopo da Bassano. E si tratta niente meno che di un rame di Jacopo da Bassano. Chiaro? È un rame di Jacopo da Bassano. Gli ho venduti nei nostri pizza 12-14 mila euro. La stima di questo capolavoro è di 22 mila euro. Le stime sono firmate e consegnate a voi, eh? 22 mila euro. Ok? Signore e signori, il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere senza alcun impegno all'acquisto, vedrà i documenti e valuterà con tutta calma. Se ti vuoi decidere quando e dove, quando avete voglia e tempo di vederlo, a 4.500. Vorrei aggiungere che la cordice è coeva, tutta intagliata a mano in foglia oro. Solo questa è costata 4.500 euro soltanto. Sì. Quattro e mezzo. Via. Ancora Antonio Sciacca e i suoi trappeggi straordinari. Sì, esatto. Scusate. L'opera è in orizzontale, perdonate. Ed è il numero 90. Si guarda 60, si vende a 1.200 euro. 490 euro soltanto. 4.90 per lui. Il numero 92 è un importante lavoro di Alessio Luzzi, questo straordinario artista informale italiano che sta avendo un grande successo in tutto il mondo. Il suo dripping elegante, ne racconta emozioni pure. Il numero 92, 40 per 60, ha soltanto 750 euro. Signore e signori, il numero 93 è una bottega del Cantarini da brivido. Simone Cantarini, mamma mia, che serata è questa amici. Una bottega di Simone Cantarini ha una stima di 7.500 euro, questa sacra famiglia. Una sacra famiglia dei Cantarini così bella. Siete pronti? 1.750 euro. Ma no, è una bottega, amici. È una bottega. Ed è il numero 93. Via. Il numero 95 è un ritratto di Giovanni De Medici. Un giovanissimo Giovanni De Medici. È un dipinto del 1700, offerto questa sera a 1.450 euro. Un ritratto di Nobile, questa è l'opera numero 101, di un sequestro di Andrea Piani, offerto a 750 euro soltanto a fronte di una stima di 1.500. E poi un straordinario dipinto del 1600 che racconta San Giovanni. Questo, San Mario Battista, numero 107, costa 2.500 euro. 1.200 euro soltanto. Ancora lui, ancora Alessio Luzzi, con quest'opera eccezionale. è un olio su tela. Si intitola The Music of the Soul, la musica dell'anima. 40 per 60, la misura costa 2.200 euro. 750 euro soltanto. Vai. Bello, 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 bello. Allora, questo è un capolavoro. Dunque, non amo presentare i quadri senza cornice. Questo quadro è giunto a noi così. Sarà mia cura portarvelo a casa con una bella cornice. Non a spese vostre, tranquillo. Sono due angeli. È un dipinto del 700 senese. Siamo a Siena. Nella splendida città di Siena. Sono due angeli dolcissimi. È un dipinto del 1.600. Mi piace da matti. Vi regalo anche la cornice. È il numero 111. Costa 4.500 euro. Senti qua, amici. 1.700 euro soltanto. Via, 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 via. È invece il numero 115. Un seguace del Simonini. Scende a 290 euro soltanto. Scende a soltanto 290 euro. Confermato il tonfone, il numero 70. Complimenti. Via. Man Ray. Una litografia originale di Man Ray, rarissima, firmata da lui. La firma è autografa. Costava 7,50. 290 euro soltanto. Controllo. Basta che non venga dalla regia. Grazie. E adesso. Alessandro Scusa ha confermato il numero 99, l'Immacolata di Murillo. Bellissimo quadro. Complimenti, complimenti davvero. Allora, adesso vi faccio vedere un'opera 99, che dedico a chi non ama l'antico, a chi non ama la pittura d'epoca, a chi vuole solo contemporaneo, solo moderno, eh? Siete pronti? Signore e signori, ditemi se avete visto una santa Caterina d'Alessandria più bella di questa. È un rame. È un rame, amici, favoloso. Cos'è? Mamma mia, sei bella una cosa veramente fantastica. Io di quadri belli, ok, di quadri belli ve ne ho venduti tanti, indiscutibile. Ma un gioiello come questo. Dove l'hai messo? Dove l'hai messo, Alessandro? Dai un pochino di luce e ti avvicini. Guardate, 400 anni di storia. Avete visto qualcosa del genere voi? Io mai. Grazie. Allora, è l'opera numero 119. Ha una stima di 7500 euro. Signore e signori. La parola fare esce molto di rado dalla mia bocca, ma questa sera devo fare un'eccezione. Grazie. Il primo che mi chiama, io glielo porto a casa, ha 1700 euro. È un rame del 600 da privido. Hai visto che cos'è? 1700 euro soltanto. Sarete voi a decidere quando e dove vederla, ma non ve la fate sfuggire, perché è una stima firmata che ti consegno di 7500. Guarda che cos'è. È un altro lingotto d'oro di questa sera. Bellissimo, bellissimo. Grazie, Salone. 40 settimedi per 40 è il numero 120. Costa 750 euro. Attenzione, 290 euro soltanto. Ed è il 120. E il numero 122 è una incisione di Joe Pomodoro, firmata da Joe Pomodoro, offerta questa sera a soltanto 290 euro. Cosa mi dite di questo incredibile coro di angeli? È una tavola fondoro. Guarda che meraviglia, con una cornice tutta intagliata a mano in foglia d'oro anche lei. Veramente stupenda. Che gioiello, metterà a parete un quadro così. La previsione numero 131. Costa 2500 euro. Sedete qua, 950 euro soltanto. 950 euro per lui. Via! Pablo Picasso! Attenzione! Pablo Picasso! Incisione! Uno dei suoi splendidi, baccanali, baccanali. Io la vendevo a 3500 euro, un'incisione così bella. 1900 euro soltanto. 1900 euro per Pablo Picasso! E adesso ancora lui, Andy Warhol, con la mitica Mami. Alessandro, scusa, ha confermata la 138 e 127. Grazie mille. 138 e 127. 138 e 127. Cosa mi dite amici? Chi era la Mami? La Mami era questo personaggio. Io non so, Ale, io non so quanti anni avete voi, ma se avete visto mai i film americani anni 50, anni 60, nei film americani c'è sempre questa figura, nelle famiglie, nelle case, di una donna di colore, piuttosto robusta, che è un po' quella che si occupa della casa, la mitica Mami. E questa è la Mami rivisitata dal grande Andy Warhol. L'opera è firmata da lui, costa 3200 euro, prezzo ottimo, 1600 euro. La firma è ben visibile in alto a sinistra, Alessandro. La Mami per Andy Warhol. Una straordinaria Venezia del 1700, di Johann Richter. 4500 euro di stima, 950 euro soltanto. È il numero 146, via. Bello questo paesaggio, lo sai perché è molto bello? Perché è un dipinto di Arturo Tosi, uno splendido dipinto di Arturo Tosi che costa 4500 euro, grande chiarista italiano, questa è una tavola del Tosi, 2500 euro. Ripeto, da 4 e mezzo di vendita in galleria a 2 e mezzo. Questa è l'operazione Giast Art, approfittatene, bellissima l'opera in visione, che è la numero, dicevo, 150 e adesso, attenzione, numero 152 è un dipinto di Francesco Sorbi, grande personaggio, grande nome, costa 2500 euro, 1200 euro soltanto. E attenzione al numero, oh quanto mi piace questo, quanto mi piace. Amici, è una tavola del 700, è un concerto nel parco. Ma che bello questo quadro. Siamo nel 1700, un concerto nel parco, con la sua cornice coeva, numero 156, costa 4200 euro. Senti qua, 1300 euro. E avanti, è il 165, ok, questi due fratelli in un interno, costa 2500 euro, offerto a 9,50. Alessandro, scusa, chiedono di rivedere il lotto numero 148. Il 148 lo rivediamo tra un istante. Via. Bella, bella questa, un'altra battaglia, di un seguace del Casanova, questa è l'opera numero 167. Ferdì, Francesco Monti, chiedo scusa, pensate, costava soltanto 1500 euro, 550 euro. Attenti a quello che arriva. Ai, ai, ai. Signore e signori, il numero 169 è questa straordinaria madonna del 1600, della bottega del dolci. Allora, quest'opera ha una stima di 7.000 euro. è una tavola del dolci del 600, bella e incantevole. Bene. In questa commissione dove tutto può accadere, voi non avete nessun impegno all'acquisto, uno di voi si può avvicinare a lei. Dio, Alessandro, voglio vederla senza impegno questa sera. a 1500 euro. Non esiste una bottega del dolci a 1500 euro. Falla vedere, è stupenda quest'opera, stupenda. Mamma mia, che bella che è. Meravigliosa. L'opera è la numero 169, se volete vederla. Grazie Fabio, andiamo sul 170. Antonio Capone, quest'opera è dal titolo Abbracciami, questo artista contemporaneo che dipinge su dipinge su carta di giornale. Quest'opera, la numero 170, offerta soltanto 290 euro. Poi, un altro capolavoro fiammingo è questa tavola parchettata, scusate i riflessi, l'opera numero 171 di Jos van Krasbeck. Siamo nel 1600, questa coppia in locanda ha una stima di 9.000 euro, 2.500 euro l'offerta. Tavola attribuita a Jos van Krasbeck. Il numero 173, questo dipinto lombardo del Settecento che racconta il volto di San Pietro, costa 7.000, 1.900 euro soltanto. Puoi far vedere il retro dell'opera? La tavola è parchettata anticamente. Molto bella. Grazie. E poi, il numero 174, niente meno che un pezzo unico archiviato di Carla Accardi. attenti i collezionisti. Ho appena detto Carla Accardi. Magnifica, magnifica opera di Carla Accardi. L'opera in visione, pensate, costa 3.500 euro, si vede in galleria. 1.700 euro soltanto. Mamma mia. Via. Il numero 177 è questa composizione del seguacere Abraham Bruegel. 3.500, la stima, 1.200 euro l'offerta. Avanti. Andy Warhol. Autorizzata dalla Andy Warhol Foundation for Visual Arts, questo Brooklyn Bridge. L'opera in visione, offerta a soltanto 390 euro. Via. E' meraviglioso dipinto del 700. Questa donna elegante, questa ragazza intenta la lettura. Molto, molto bello. Costa 4.500 euro. E' offerto a 1.700 euro soltanto. E' ancora Carla Accardi. La grande Carla Accardi con un pezzo unico archiviato. E' il numero 181. L'opera in visione. Offerta a 2.500 euro soltanto. Avanti. Numero 184. Che spettacolo è questa scena. Con una mamma, con i suoi bambini, il cagnolino, la cascata dell'acqua, numero 184. Siamo nel 1.700. E' un olio su tela, 30 per 40, costava 1.700 euro. 550 euro soltanto, amici. Avanti. Martino Gorno, numero 185. E' questa opera offerta a 2.90 euro soltanto. Vi ho detto ampiamente. Grande erede di Rotella con i suoi decollage. E' il numero 187. Lorenzo Ebe, il grande Bluer. Questo è un dipinto di Bluer. la sua resina. Costa 2.200 euro, 7.50 euro, l'offerta di questa sera. Adesso vedrete altri 75 quadri. Non c'è male. Mancano 20 minuti a mezzanotte. Siamo in diretta in tutta Italia. questa regale di Orlando in questa operazione che ho deciso di fare in questi giorni per farci dimenticare un po' quello che stiamo vivendo. Ho deciso di alietarvi con degli sconti pazzeschi sul moderno e contemporaneo, sotto costo reale, sugli antichi per volontà della proprietà degli stessi. Ho fatto ribassare tutte le riserve. Divertitevi in questo momento in cui collezionare, fare collezionismo è la scelta più saggia per cui sono i soldi meglio spesi della vostra vita. Ma voi adesso non dovete comprare niente. Non si compra niente in televisione a mezzanotte e in pochi secondi. Ma potete scegliere tutti i quadri che volete per poterli rivedere con più calma quando volete voi e quando potete. Poi solo allora deciderete se acquistarli o non acquistarli. E se deciderete di acquistarli sarete voi a decidere come pagarli quando pagarli in che modo pagarli con che sistema pagarli. O se avete qualunque domanda o richiesta se vi ricordate un'opera della carellata che volete rivedere con più calma con più attenzione chiamatemi adesso. Non vi ricordate il numero del quadro? Nessun problema datemi qualche indizio al fine di ritrovare l'opera che volete rivedere. Intanto noi proseguiamo. Questo Bernardo Bertin è un disegno di fuoco un descendefe su tela 40x40 costa 2.200 euro signore e signori 750 euro. Il prossimo è Daniele Mariani il numero 195 il grande maestro di fotografia milanese che si vende a prezzi pazzeschi a Milano in galleria ma non solo a Milano perché è un grande nome della fotografia italiana. Si tratta di un pezzo unico perché sono quattro Polaroid incastonate tutte e quattro nella stessa cornice ebbene offerto a soltanto 290 euro pensate se sapeste quanto costa in galleria Milano ebbene infatti lo vendevo a soltanto 1500 euro. Andiamo avanti Nino Caffè eccolo qua un altro grande personaggio che mi piace da impazzire il grande Nino Caffè un pezzo unico di Nino Caffè l'opera in visione numero 200 offerto a soltanto 750 euro guarda che bello che è un pezzo unico sono stupendi a soltanto 750 euro e ora grande concentrazione per quello che sta per arrivare perché il dipinto che segue cioè l'opera numero 203 siamo nella bottega di Giovanni Camillo Sacrestani attenzione attenzione a questa splendida madonna con bambino del Sacrestani tra l'altro ha una cornice coeva che è qualcosa di meraviglioso guardate qua guardate qua oh che spettacolo amici bellissima bellissima tutta in tagliata mano numero 203 allora vi dico subito ha una stima di 7500 euro 2500 euro soltanto questa è l'opera numero 203 via e invece l'opera questa scuola fiorentina una madonna annunciata del 700 bellissima la posizione questo è uno 208 pensate costa 5500 euro 1700 euro soltanto Luca Dall'Olio l'artista surrealista per eccellenza 35x25 costa 1500 euro in galleria 900 euro di offerta e il numero 213 è questo dipinto straordinario che racconta la caccia alle balene guardate com'è dipinta quest'opera è un dipinto inglese offerto a soltanto 390 euro ne costa 1200 218 numero 218 lo vado a pazzi giuro veramente allora ritratto di nobile Thomas Hacker l'artista 40x50 offerto a 200 sì a 490 euro soltanto poi grazie numero 219 Bernardo Bertin uno dei suoi Dissende Feu un disegno di fuoco su tela splendida opera davvero bellissima è questa 40x40 2200 euro in galleria 750 euro soltanto passiamo al numero 221 Gennaro Piccini ma che bello quest'opera è Gennaro Piccini l'opera numero 221 30x40 la misura offerto a soltanto 390 euro un olio eh signori splendida Madonna con bambino e San Giovannino con la luce di Andrea del Sarto meravigliosa guarda che bellezza splendida opera attenzione al prezzo stupenda la trammissione non ci si annoia mai l'opera è in visione la numero 238 ho una stima di 7 e mezzo però 1900 euro soltanto 1900 euro soltanto è bellissima a fronte di una stima di 7 e mezzo via Pablo Picasso uno dei suoi straordinari baccanale l'opera in visione numero 239 la si vendeva in galleria a 3250 1900 euro vai il numero 263 è un dipinto originale di Pietro Sala importantissimo artista lombardo dell'ottocento che racconta la danza del flamenco guardate che spettacolo firmato e datato in basso a destra sala 1882 offerto a soltanto 1500 euro ne costa 3 e mezzo amici avanti vediamo poi questa marina con pescatori numero 265 la previsione offerta a soltanto 900 euro passiamo numero 272 questo è un dipinto fiammingo delizioso questo interno è tipico e tra l'altro è un rame numero 272 offerto a soltanto 550 euro ne costava a 1007 mamma mia signore e signori questa invece è l'opera numero 276 scusate è un dipinto di Francesco Siniscalchi a strato offerto a 290 euro questa sera a fronte di un prezzo di 1500 e poi grazie andiamo a vedere il ah meraviglioso questo dipinto questo seguace di Giuseppe Zeiss è un dipinto del 1700 che racconta Londra la città di Londra offerto a 750 euro soltanto yes bellissimo la cornice coeva tra l'altro è bello il 7 via e splendida questa marina questa spiaggia e la scogliera l'opera numero 279 offerta a 900 euro soltanto a fronte di un prezzo di 2500 e attenzione amici perché questo è Giorgio De Chirico che ritrae Isabella Fara 1200 euro di richiesta 590 euro l'offerta 290 invece vediamo se è giusto sì è un paesaggio di Horace Clement 1981 290 euro anche per lui a fronte di un prezzo di 1200 e Giovanni Francesco Gonzaga la pattuglia a cavallo una vecchia cosa offerta a soltanto 290 euro poi Francesco Cecere ancora di scena 50 per 40 olio su tela offerta in galleria a 1500 euro 390 euro per lui cosa vi dite poi di questa composizione di frutta bellissima di un seguale di Yambanos con cornice coeva numero 298 offerta a soltanto 750 euro stava 1.5 e poi il numero 299 un dipinto ad olio di Virgilio Guidi questo incontro metafisico bellissimo dipinto ad olio su tela offerto a soltanto 1700 euro ne costa 3,5 via ancora il grande Bernardo Obertin questo De Saint-de-Foe su tela che misura 40 per 40 si vende a 2200 euro in galleria 750 euro soltanto ma a dire scusa a dire poco eccezionale attenti collezionisti perché l'opera che segue è un capolavoro di alta epoca di Cesare Gennari un ecce omo del 1600 straordinario con la sua cornice coeva e il lotto numero 301 Cesare Gennari siamo nel 1600 a una stima di 7000 euro signore e signori 1900 euro soltanto beh amici io ripeto solo in questa trasmissione perché poi è chiaro questa operazione ho voluto accendere questa operazione straordinaria questa sera che vi consente di ravvicinarvi a capolavori di alta epoca a prezzi così piccoli ma voi voi volete prenotare tutti i quadri che volete e vederli con calma quando avete tempo e voglia siete voi a decidere quando e dove ma l'importante è prenotare senza alcun impegno all'acquisto per assicurarsi i prezzi di questa operazione pensa che cos'è un ecceomo di questa bellezza un prezzo simile e adesso il numero 305 Martino Corno grande erede un attimo solo a 290 l'opera in visione questo decollage grazie e attenzione Pablo Picasso che meraviglia è questa opera la numero 306 un'incisione di Pablo Picasso che io vendevo a 3250 a soltanto 1900 euro e poi cosa mi dite di questo interno domestico della pottega del Vanostad siamo nel 1600 luce offerto a soltanto 7500 euro a fronte di una stima di 15.000 e il lotto numero 309 Giuseppe Mignieco una tempera di Mignieco 20x30 offerta soltanto 1400 euro costava 2,9 amici il grande Mignieco poi facciamo un salto nel tempo di 200 anni ancora andiamo nel 1700 con questa tavola che racconta una caccia al cervo questo è un dipinto molto importante per la misura quella del sovrapporta ed è il numero 310 offerto a soltanto 1900 euro costava 4,5 numero 317 e invece questa venuta dalla costiera amalfitana un acquerello questo vicolo sul mare costa 1500 euro attenti 390 euro soltanto e il numero 318 è invece oh che meraviglia questo concerto nel parco un dipinto ad olio su tavola questo è il numero 318 offerto a soltanto 750 euro amici attenti a questo numero 326 mamma mia com'è bella amici una madonna con bambino di alta epoca siamo nel 1700 costa 4500 andava bene offerto a 1700 euro soltanto Alessandro scusa chiedono di rivedere l'otto 233 250 allora amici grazie Alessandro io vi devo salutare mancano nel frattempo è stata confermata l'opera di Valdeo Vinetti complimenti è un capolavoro ripeto confermato non vuol dire acquistato non si compra niente in televisione a luna del mattino siamo in diretta amici adesso se c'è un'opera che volete rivedere mancano 12 minuti 14 minuti alla luna del mattino se avete una domanda una richiesta dimmi di un'opera che volete rivedere ditemi adesso quale senza nessun impegno non si compra niente in televisione in pochi minuti e a quest'ora di notte ma approfittate di questi prezzi straordinari che ho voluto fare in quest'operazione quest'operazione si chiama Just Art non vi portiamo niente che fa ingrassare a casa ma qualcosa che nutre l'anima come le opere d'arte godetevi la vita e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti